Eccoci qua, ciao a tutti, ciao a tutti, pure per il 2023, ciao Michele, abbiamo retto la fine di questo 2022, ci siamo anche in questo 2023, tra l'altro abbiamo iniziato entrambi a lavorare, tra l'altro anche gli altri hanno iniziato a lavorare, infatti arriveranno alla spicciolata, otaku inside non si sa in che condizioni fisiche e psichiche, giravoce che in brutte condizioni, vediamo quando arriva, no cavolo, e invece vedi, tac, buonasera a tutti, Ah, sei vivo, sei vivo Fra? Sì, sì, ma siamo in live? Sì, ebbè, ah ok, perfetto, vabbè, bisogna un attimino tararsi, non sa che ti è arrivato adesso, eh no, bisogna un attimino tararsi, ciao a tutti, eri pronto a sparare due o tre cose bannabili? No, ecco, ci siamo in live, posso, siamo in live, posso, è in live, posso, vedi, è cominciato in maniera coscienziale, devo dire la verità, l'inizio di Francesco di questo 2023 è stato incomiabile, no? Fino adesso non ha sparato cose bannabili neanche fra di noi, è stato tranquillo, ha iniziato a lavorare, non ha detto parolaccio, nulla, sta in piedi dalle 4.40, è vero, sono d'accordo, non sono entrato sbuffando due palle, sti infami qua in chat, bisogna lavorare, no, niente, bravissimo. Mi sono fatto, mi sono fatto le polpette a su, che sono arrivato. No, vabbè, è troppo serio, cioè, significa che quest'anno poi anche alle fiere farai, finalmente ascerai il ping pong. No, quello no, assolutamente, quello lo fai tu Ale, io rimango dietro alle quinte, nel senso, però sono umile. Buonasera Michele Mare, staff di Anime Click e altri ospiti, ho letto i primi due volumi di Inoua Gakrash, sono a metà del 15 di Black Cat e al 20 di Berset. Qui si legge, si legge alla grande, bravo, bravo. Adesso io vado a cercare questo Inoua Gakrash. Vai, vi giuro, non ho mai sentito. Fa vedere, non ho mai sentito in vita mia, eh. Allora, dunque, Anime Click, andiamo su Anime Click, dai. Non c'è. Gli diamo il click, allora, manga, fa vedere. E poi faccio aumentare l'ospite di stasera. Volumi 8, vabbè, ci può stare, dai, 8 volumi, Donnina Waifu, ci sta, ci sta, non sembra male. Quindi è leggibile, leggibile? Sì, 8 volumi, insomma, siamo al limite, però sì. Ammazza, 8 volumi, diciamo, siamo fra la miniserie e la serie, dai. Ricordiamo che te, se non è volumi unici o miniserie, altrimenti diventa difficile. Eh, comunque, è il sequel spin-off di Akame Gakill, quindi dovresti leggere anche quello fra... Ah, allora... Akame Gakill, però mi sa che ho visto l'anime. Possibile? Eh, sì, c'è stato, non so se l'hai visto, perché se tu... Eh, voi ce lo ricorda. Fa vedere. Allora, andiamo a vedere quanti volumi c'ha questo, intanto. Intanto facciamo entrare Time Walker, Antoine, Ciao, Michele, ciao da Quincyide. Buonasera. Te lo può vendere Time Walker, qualche manga, qualche miniserie, mo' ce la facciamo consigliare, adatta a te, un normal one. Eh, giusto, è vero, no, perché... Cioè, ti capitano dei normaloni come me che vengono lì con pretese alte, spendere poco, possibilmente serie corte, donnine, violenza... In realtà è molto standard, è molto standard, è molto standard, proprio, standard. Eh, ma infatti io rappresento il normalone. Cioè, quando io dico, ragazzi, io sono il normalone, perché la... Non è che... Si deve concludere in due volumi, Massimo. Massimo. Guarda, se proprio, proprio... Oh, ha proprio ragione. La regola di Francesco è meno di dieci volumi. Ah, proprio che lì non si... Sì. E devono essere argomenti non pesanti, non roba da boomer, roba... Sì, che devono esserci le tette. Vabbè, quello è ovvio. Possibilmente. Sennò anche il culo in alternativa, però... Tra l'altro non so se hai visto Nier Automata... Non ancora io. La prima puntata... La l'arte ho pensato, chissà perché. Eh, ho visto degli screen in giro. Eh, sì. Vabbè, se avete giocato al videogioco, mi hanno detto che anche nel videogioco... C'era molto fanservice, diciamo. No, parlando di Nier Automata, praticamente il personaggio comunque è studiato non per stare nuda. Cioè, nel videogioco praticamente c'è gente che la girava in ogni modo, ma raga, non si vede niente. Cioè, era molto standard alla fine. Ci ho provato, ci ho provato. Ma infatti tante persone si sono inventato questo personaggio che praticamente gira così, seminuda praticamente. Però si poteva alzare la gonna, mi sembra. No, no, non ci arriva. E' testato, ragazzi, è testato. Dai, ci hai provato, eh. Anch'io. E niente. Però, hai visto la prima puntata, Time? Non ancora, non ancora, non ancora. Devo recuperare pure Trigan, perché... Quello poi ne parliamo, sì, sì. Poi ne parleremo anche domani, che parla il momento degli anime, ma io ho visto entrambi perché ero molto, molto curioso. E devo dire, avevo aspettative più alte per Nier, automata, e avevo veramente zero attenzione per Trigan, che tra l'altro non è che sono fan della prima ora di Trigan, non mi aveva entusiasmato neanche all'epoca. E invece, c'è tutto il contrario, sinceramente mi è piaciuto molto più Trigan. Anche come animazioni, pensavo fosse una cagata col botto, invece... Sì, tutto è duro. Anche dai trailer avevo visto Trigan, che c'erano alcune così, piccole cosine che stonavano, però in generale mi sembrava ben fatto. Anche la CGI non era così fatta male come capita di solito in alcuni anime, magari giapponesi. Quindi mi aveva dato delle vibes positive. C'erano alcune cose che un pochino mi stonavano, però sono curiosa di vederlo anch'io. Nino Kuni. No, come è? Scusami, quello delle gemme. Non il Nino Kuni. Ah, Land of Lustrous. Land of Lustrous, sì. E' quello che aveva fatto già le animazioni per la serie animata di Land of Lustrous. E più aveva fatto anche Big Stars. Quindi comunque, dei bei prodotti in computer grafica rispetto a quella media che vediamo. Però effettivamente tocchi Trigan, tocchi comunque qualcosa a cui è legato il pubblico, soprattutto dell'età tua, no Tony? Sì, un'età di Tony. Anche perché alla fine, leggendo un po' in giro, comunque c'erano... Prima impressioni negative solo perché era fatto in CGI, senza poi che l'hanno visto realmente. Sempre queste prime impressioni, perché quando si tratta di un prodotto in CGI, cioè, non è che va molto a genio al pubblico. E poi appunto, ripeto, è un titolo che comunque ha il suo pubblico, ha il suo fandom, quindi c'è sempre quella componente nostalgica. Anche se io devo dire, l'animazione all'epoca non ero un gran fan di quell'animazione lì, di quel tipo di animazione anni 90. Io ero cresciuto negli anni 80 con un'animazione un po' più realistica, più masha, diciamo. Poi, fondamentalmente, quella del post 2000 mi ha accontentato. Però devo dire che effettivamente eravamo rimasti tutti con questo dubbio un po'. E invece tutti si aspettavano chissà che cosa. Da Nier Automata, devo dire, io in realtà, ho vista la puntata, non mi è dispiaciuta. Però devo dire che lì, in realtà, la computer grafica non mi è proprio garbata tantissimo, perché è proprio staccata quella quando fanno determinati rombo e code. Questa critica qua l'ho letta da molti, Ale, anche sul mio gruppo ne parlavano e, cioè, i primi feedback sono come stai raccontando tu, Ale. Adesso io lo vedrò nei prossimi giorni. Però ci sono le musiche, capisco chi ha giocato al videogioco. Penso pure Tony avrà giocato al videogioco, quindi rivedrà parecchie atmosfere. No, sì, infatti, vabbè, il videogioco è stupendo, tra l'altro. Che poi ci sono pure i vari prequel, che comunque vale la pena giocarli e studiarli, perché comunque è un mondo veramente fatto molto, molto bene, con tutte le storie, con tutti gli intrecci. Molto, molto bello. Allora, stiamo dicendo, Tony, se ti arriva un normalone, il normalone tipo che ti arriva in fumetteria, qual è? No, allora, partendo dal presupposto che parto sempre col consiglio, mi puoi consigliare un manga anche un solo volume, tipo, cioè, vanno subito sul, o sulla serie brevissima. Al di là, al di là comunque del genere, mettono avanti il fatto che deve durare poco, quindi poi viene tutto il resto. Ce l'ho, ce l'ho, questo ce l'ho, fatto, mio. Andiamo avanti, poi. Ma perché devono durare poco? Cioè, ci sta una ragione in tutto questo per i soldi, perché si sfastigliano, come dicono. Ma penso che sia un fatto che, comunque, non ci vogliono spendere molti soldi e quindi, sostanzialmente, non sono manco persone che seguono chissà quante serie e quindi vogliono concentrare in quei pochi volumi la loro collezione, quindi. Soldi, bravo, spazio, perché comunque c'è anche lo spazio, aggiungiamolo. Ciao Frankie, ciao Frankie. Allora, c'è lo spazio, il denaro e poi puoi essere comunque multitasking, che va molto di moda nel 2023. Però puoi leggere un po' di tutto, no? Cioè, con quello che mi chiede, invece, mi chiede che segue 300.000 serie, no? Lunghissime, c'è One Piece, no? Milioni di volumi, inutile, no? Scusa, fammi, cioè, leggi quattro serie, no? Un volume unico e tu hai letto tante cose diverse, hai conosciuto più autori, più storie, no? Hai capito? Fra, il problema è che nonostante leggo serie lunghissime, leggo dieci volte più di te. Non cambiamo discorso, è la coda di Pagli, andiamo avanti. Prosegui, Tony, prosegui la cosa. Sì, allora, per esempio, parlando sempre di volumi autoconclusivi e quant'altro, sto ragazzo mi fa, mi puoi suggerire qualche serie che fisca subito, magari anche un solo volume, ma a te piace l'horror? Vabbè, però se è un solo volume ci potrei pensare. Ma che significa? Vabbè, comunque, alla fine io gli ho suggerito Hideout di Kakizaki. Kakizaki, bello, bellissimo. Conosciutissimo da Otaku Inside, vedo proprio... Cazzo, è quello? Sto laggando, scusate. Non ho... Non mi torno in cuffia, non sento bene. E comunque, alla fine, così, lui contento che aveva trovato questo volume, così... Sì, esatto, bellissimo. Ah, quello lì, ok, 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 ok. Non l'ho preso, però la copertina l'ho vista milioni di volte. Vabbè, ci sta, ci sta. E niente, comunque, questo è proprio la cosa standard. E poi vanno molto le commedie romantiche, comunque, soprattutto commedie romantiche. Shonen, cioè, Batte Shonen, cioè, Batte Shonen, inteso un po' Mairo Accademia, Jujutsu Kaisen, quella roba lì. Va o va altra roba? Allora, adesso, per esempio, Mairo Accademia è calato un po', ma Jujutsu Kaisen va più di Mairo Accademia. Cioè, attualmente. Ok, attualmente. Cioè, almeno dalle mie parti. Però, comunque, vendono sempre tanto. Cioè, Demo Slayer, Jujutsu Kaisen, Mairo Accademia... E Shonen, dopo l'anime, hai visto un innalzato? Vabbè, sì, è esploso. È esploso, totalmente. Ok. Cioè, devi fare restock, veramente, ogni due o tre giorni, perché... Ok, quindi c'è gente che arriva lì e ti dice, io ho visto l'anime, voglio... Esatto, esatto, tutti quanti partono così. Anche perché i normaloni, come dice Alessandro, sono anche quelli che, in realtà, vedono gli anime e dicono, ma poi è finita la prima stagione, ma poi dove posso continuare dal manga? Perché loro vogliono continuare e c'è questa grande... Perché poi è l'obiettivo degli anime, no? Nascono fondamentalmente per far comprare i manga, molti di questi, quindi... Sì, 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 raggiungono l'obiettivo. Sì. Allora, guarda, Antonio, sai che cosa è? Ti voglio leggere la classifica dei concorrenti, però vediamo, proprio lo Star Shop di Napoli oggi ha fatto una classifica, che voglio confrontare con te per vedere se magari tu, comunque, nella stessa zona, comunque, con un pubblico comunque sempre molto affezionato, Vediamo se anche tu riscontri questa classifica che è fatta di top vendita per quanto riguarda l'anno scorso e che vede al decimo posto la nuova edizione di Evangelion, al nove, My Hero Academia, all'ottava, Spyper Family, al settimo, Jujutsu Kaisen, al sesto, My Dress Up Darling, al quinto, Berserk, al quattro... Quarto, Chance of Man, al terzo, Demon Slayer, al secondo, Kaiju 8, e questo mi ha stupito, perché comunque è il secondo posto, e al primo, One Piece. Come ti trovi te con questa classifica vendita? Allora, io mi ritrovo, mi ritrovo Berserk forse un po' più su, almeno tra le prime tre, come venduto, anche in precedenza, cioè nel senso che... Perché comunque è un manga che io personalmente ho spinto tantissimo, cioè nel senso pure persone che non lo conoscevano già da prima, quindi qui diciamo ho influito un po' io. One Piece, sicuramente primo posto, secondo, Demon Slayer, e quarto, quinto, mi trovo comunque con Jujutsu Kaisen, più o meno. E forse, sesto, comunque, My Dress Up, un po' più giù, diciamo, My Dress Up. Forse ho venduto più Dragon Maid di... Ah, sì. Ah, questo non me l'aspettavo, assolutamente. Infatti pulisco un attimo la webcam, scusate. No, Dragon Maid, Dragon Maid, no. Però ti posso dire, naturalmente... Kobayashi, per gli anime per gli holly. Però posso dire che comunque il mercato, in generale il manga, è veramente spaccato, diciamo, da paese a paese, cioè nel senso che ci sono... Perché dei ragazzi magari che si frequentano tendono comunque a diffondere un determinato manga in altre zone, in altre, cioè non c'è proprio un mercato, secondo me, proprio unico, quando passi da un paese ad un altro, secondo me, cioè non c'è proprio... Più o meno siamo lì per i top titoli, però comunque cambia qualcosa, insomma. Timo Slave, invece, che lo leggeva... Cioè, Fabio diceva in chat, è vero, Timo Slave non è andato bene, cioè nel senso... Non tantissimo. Non tanti, pensa. Ok, credo che io, sai, sono un normalone, le cose, insomma. Timo Slave ha tutti gli elementi per farti contento, quasi. Eh, il primo volume a 0,99, quindi un incentivo importantissimo questo. Quindi, insomma... Allora, vediamo un po', ma quindi One Piece al primo posto ti ci trovi. Ragazzi, ma com'è possibile? Nel 2022 ancora One Piece, è stato l'anno di One Piece sicuramente, però io penso che una serie così lunga venga comprata da chi comunque la sta seguendo dall'inizio. Quindi è gente che ha sostenuto proprio la serie e che la sostiene tuttora. Cioè, nuovi lettori di One Piece ci possono essere. Sì, sicuramente, sì. Ma pure perché alla fine, pure la... Cioè, ci sono ragazzini che iniziano l'anime, eh, raga, lo sai, è incredibile. Cioè, che passano forse la loro vita a guardare l'anime di One Piece. Sì, non sta ancora anche nessuna piattaforma, tra l'altro, se uno ci pensa. Sì, 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 sì. Questo sì, purtroppo non ci sono modi... Anche se non mi ricordo dove stava parlato con Netflix, One Piece. Non mi ricordo in che parte del mondo. No, 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 in Giappone, quello cioè, in Giappone ci sta tutto. Quando sono andato in Giappone l'ultima volta, ho aperto e ho detto, minchia, perché ho l'applicazione di Netflix. Per curiosità, l'ho aperta, minchia, c'è di tutto lì sopra. Sì. Però ecco, penso se ci fosse anche questo, la possibilità di potersi maratonare tutto One Piece con l'account del genitore di Netflix. Quanta gente nuova si potrebbe fare. Però ecco, già solo con questo stiamo parlando di una serie che prima, nella classifica di vendita, non è anche per te. Quindi, cioè, comunque c'è un pubblico che compra ancora tanto One Piece. Sì, compra tanto e soprattutto sono ancora interessati e non si scoraggia, no, dal fatto che ci sono 100 numeri da là. È una cosa assurda. Ma tanto è vero che il primo numero di One Piece, New Edition, è rimasto comunque esaurito per molto tempo. Cioè, era difficilissimo da reperire. Poi secondo me è un manga che si legge molto bene, nonostante tantissimi volumi. Poi è scorrevole, se ti prendono le saghe praticamente le divori. Se arrivi ad avere l'ansia di voler leggere il capitolo tutte le settimane, lì in fondo, quando ci sei dentro, è molto bello da leggere. Sì, vuol dire che comunque un motivo c'è, perché nel senso, ok, gusti, però, se tutti quanti provano quest'amore verso questa serie, comunque qualcosa di fondo ci sarà, no? Fabio, la VPN, però sì, te lo dovresti sentire in giapponese. Forse con i status? Eh, perché sì, credo che... Forse inglesi, sì. Eh, forse inglesi, forse. Sì. Però io parlo del ragazzino normale che sta a casa, che figura di che cosa sa che della VPN, ma adesso non facciamoli troppo evoluti. Quelli al massimo aprono e vedono YouTube o... Eh, anche se ormai su NordVPN, su YouTube, veramente tutti i big YouTubers lo sponsorizzano, quindi forse anche i muri ormai sanno la VPN, credo. Ah, quello che vedi, in questo sono molto boomer, quindi già i ragazzi si hanno... Eh, la nostra YouTube... Sponsorizzata manetta. Eppure, allora, c'è un motivo però perché, appunto, cominciamo, perché io non li vedo a scaricare anime, sinceramente, queste nuove generazioni, abituate adesso ad avere tutto e subito in versione download, versione streaming, quindi molto probabilmente ci arrivano alla serie. È un grande peccato che non stai su qualche portale importante. Ma perché Crunchyroll, siamo sicuri? Perché forse c'è spezzato su Crunchyroll? Sì, sì, c'è spezzato. Sì, sì, alle ultime stagioni, tipo. Ah, ok. Alle ultime stagioni, mi sembrano le prime, mentre invece di tutto il resto, sì. Ah, ecco, ecco. Mi sembra di Naruto e degli altri ci dovrebbero essere anche le prime, ora che comunque stanno anche arrivando su Amazon con Yamato. Mentre invece Kaiju 8, ti risulta aver avuto questo boost incredibile? Allora, Kaiju 8 ha avuto un hype incredibile al lancio, cioè perché comunque è stata fatta comunque una campagna pubblicitaria importante e che comunque tutti quanti aspettavano poi, compravano di tutto, variant, ultra variant, eccetera, eccetera. Però comunque si mantiene stabile, cioè nel senso né alto né troppo basso come mercato, secondo me. Cioè è giusto. Non arriva magari a un Demon Slayer o Jujutsu Kaisen, però comunque mantiene bene. Pensare, Tony, che ancora deve uscire l'anime, sicuramente anche quello gli darà un bel boost quando... Sì, sicuramente, sicuramente. L'abbiamo visto con Chance O'Man, penso che come dicevi te adesso... Tra l'altro, ecco, vedrai che poi le persone divaranno anche un po' stupite perché il disegno è un po' diverso rispetto all'anime. Tu l'hai visto l'anime, Tony, di Chance O'Man? Ah, sì, 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 l'ho visto, l'ho visto. Molto bello. Ragazzi, stava una figata assurda. Molto bello. Come rende animato, cioè è una cosa incredibile. E pensa che ci sta pure gente che vorrebbe, invece, che venisse rifatto da capo perché non gli è piaciuto e lo vogliono più simile al manga. A me è piaciuto tantissimo, cioè come l'ha interpretato lo studio Mappa, giusto? Sì, sì, sì. A me l'unica cosa che mi mancavano è che quando ci sono quelle scene molto splatter, sul manga sono parecchio splatter, è un po' sull'anime manca la cosa. Quella è l'unica cosa che... se no mi è piaciuto tutto, anche a me. C'era la scelta comunque di fare del realismo. Io ho tradotto un po' di articoli per capire un po' com'era sviluppata questa idea di fare l'anime diverso, anche parecchio dal mood un po' di Fujimoto. E l'idea era, Fujimoto è un grande appassionato di cinema e noi realizziamo un anime in stile cinematografico. Infatti, se vedete, la regia è molto, molto da firma, anche più di una serie TV. Ma io poi ho apprezzato più l'anime che... cioè, sapete che io il manga l'ho mollato al volume 4 o 5, invece l'anime ogni settimana ero lì con l'hype di vedermi la prossima puntata. Io l'ho apprezzato tantissimo, cioè io sono l'idea che quelle robe lì in anime io me le godo un sacco, anche per i combattimenti, cioè proprio me li godo. Poi sono fatti molto bene anche come visione, quindi si unisce tutto questo, io l'ho apprezzato un sacco. Sì, bisogna considerare che comunque, secondo me, fra l'anime è anche un prodotto che riesce a fruire molto più velocemente rispetto all'uscita di quella che è stata il manga, che tu stavi seguendo in pari. Fujimoto ha un modo di raccontare, lui stesso lo dice, che l'editor glielo ha sottolineato, che lui a volte ci mette il doppio delle vignette per raccontare una cosa rispetto ad altri mangaka. Quindi c'è anche un modo un po' diverso, nuovo, di narrare che, secondo me, può essere un po' più difficile da digerire per alcune persone. E lo concordo in pieno, tante persone magari che leggono tanti manga, mi hanno detto a me, c'è insomma, non mi ha colpito, poi magari hanno visto l'anime. Io ho letto il primo volume, francamente non aveva colpito neanche me. Infatti anche lì, come fu per l'attacco ai giganti, dissi aspetto l'anime perché secondo me esce una figata. Poi, a quelli sono questioni di gusti. Più che altro è strano da leggere Fujimoto, nel senso che hai un impatto strano quando lo leggi, perché non sai dove vuole andare ad arrivare, perché. Ci sono così tante cose strane messe insieme, che tu dici, questo è un folle. Esatto, la follia. Però poi lo apprezzi, poi man mano che vai avanti, perché dietro la follia lui vuole raccontare delle cose, capito? Ormai lui è il grande conoscitore di Tim Burton, ragazzi, lasciatelo perdere. Amico di Tim Burton. Preghiamo a Tony, praticamente, può essere successo, qualche mese fa, mi hanno chiesto di dire qualche film di Tim Burton, io insomma non me ne ricordavo, diciamo così, dopo da lì è partito sto meme. Ha dovuto googlare Tim Burton, però vabbè. Se no che si è aperto il bianco di Google, ma lì è perché c'è avuto un problema di auto. Qualche strana ragione. Però lo sapete, come il classico di Otaku Inside, che tu forse non sai, ma lui è un gran culone, oltre che persona che sa manovrare. Alla fine è riuscito a entrare, penso uno tra di noi, mi sembra l'unico, no? L'unico. La proiezione. No, no, la proiezione. La proiezione. La presentazione. La presentazione. Sì. Di mercoledì con la presenza di Tim Burton, persone che tutti volevano incontrare e che lui neanche conosceva fino a un giorno prima. Eh, conoscevo, io insomma vedo il fatto di Tim, però non mi sono mai informato più di tanto. Cosa c'è qua Tim Burton? E comunque, vabbè, c'è un parruccone con le tre cile. Ma ce li ho, eh? Sono buttato ancora lì, che mia mamma l'altro giorno ha detto, ma prendi il sacchetto che lì, ha sbattato il sacchetto, mi fa, aiuto, cos'è? Perché ha tirato fuori la parrucca di mercoledì che ce l'ho qua. E ha cominciato a porsi qualche domanda, non sapevo. Ha pensato Franci che fai delle cose strane nel weekend. Eh sì, che si è tirato fuori una parrucca così, ma ha detto, ma, cioè, perché? Cioè, no, ma c'è scritto Nefri, se ho detto, è tutto sotto controllo, forse. No, non solo un trappo. E quello che mi chiedevo, Tony, e quindi, Censomen comunque ha avuto un boost, il fumetto, ma le altre opere di Fujimoto, che sono molto particolari, tipo Fire Punch, che giustamente gli altri editori hanno pompato i titoli che avevano di Fujimoto, cercandoli di riproporli. Allora, diciamo che molti ragazzi, a parte Censomen, non li conoscono, però comunque è molto utile utilizzare Censomen come leva di vendita. Quindi, se tu hai apprezzato comunque Censomen, in generale, comunque apprezzi un po' tutte le opere di Fujimoto. Poi, soprattutto, puoi fare Punch, che secondo me è anche superiore a Censomen, comunque, lasciando stare l'opinione personale. Però, molti hanno scoperto, appunto, le altre opere, grazie a Censomen, perché ogni volta che venivano, ah, ti è piaciuto Censomen? Ok, prova a leggere questo. E quindi è molto utile, perché poi vendono in automatico anche le altre opere, 1721, 2226, Look Back. Look Back, bellissimo, tra l'altro. E quindi... Recentemente, proprio durante le vacanze, Look Back. Molto bello, molto bello. È un'opera unica, quindi l'ha potuta leggere anche Otaku Inside. Perfetto. Io l'ho passata tanto, eh. Forse è uno dei migliori volumi che ho letto durante questo 2000... Cioè, passato 2022, insomma. L'ho apprezzato tanto, tanto, tanto. Io Otaku Inside lo devo mettere nella giuria dei volumi unici, perché se li legge tutti, quindi alla fine... Ah, eh, però... Però io, a parte, guardate, che adesso a fine anno uno tira sempre le somme, no? Dei volumi che uno ha letto, le serie, eccetera. Look Back, ok che è un volume unico, però l'ho apprezzato tanto e se magari lì ci facevano una serie da due o tre volumi, un cofanetto, magari, stile J-Po, veniva fuori una cosina interessante. Cioè, bello. E quindi la gente l'ha riscoperto, Tony? Sì, sì, assolutamente, perché ogni volta... Cioè, avete Censo Man, ma io ho finito Censo Man, avete qualcosa da proporre simile a Censo Man. Io ho detto, guarda, non sono uguali, perché comunque Fujimoto ha la bravura di scrivere anche generi completamente differenti, no? Eh sì. Ed essere comunque bravo. Ha una fantasia astrosa. Ed essere comunque bravo. E quindi gli proponevo anche altre cose, come 1721, 2226, e quindi... Però, cioè, aveva comunque un successo incredibile, perché poi ogni volta tornava, diceva, hai altro di Fujimoto, a un certo punto, quindi poi... Non è che funziona. Sì. Perché poi, comunque, in questi periodi, quando poi c'è un hype incredibile per un anime, un manga, dovrebbero uscire poi tutte le opere collaterali dell'autore, in modo tale che chi vende può spingere, può usare come leva di vendita appunto la questione del successo di Censo Man per spingere... Sì, in questo caso è successo, perché poi alla fine sono stati anche lungimiranti tutti gli editori, come Star Comics, a unirsi a far uscire tutto quello che potevano far uscire di quest'autore. No, infatti sì. Infatti sì. Cosa che non è successo, però, con Gietaro Miura. È vero. Ma ecco, la penso fosse un po' più complicato, no? Ma, guarda, è un esempio... Per esempio Gigantomachia. Cioè, è mancato per quasi... Per anni. Per anni. Cioè, dico, non è che ci vuole tanto per ristabbare un solo volume. Oppure, che ne so, la leggenda del re lupo. Cioè, non è che tu dici sono opere magari in più volumi. Cioè, sono uno... Se ci pensi, in tanti hanno chiesto tantissimo a una nuova edizione di Berserk, quanto ci hanno messo a farla. Una vita, quindi... Però la voglio capire... Però magari voglio capire che magari là c'è magari un lavoro diverso, perché comunque il volume è un po' più... È una nuova. Complicato. Però là si tratta di un manga normal... Cioè, in formato è normalissimo. Quello del standard, capito? Però forse, rispetto a Fujimoto, Kentaro Miura, come stanno dicendo, è sostanzialmente Berserk. Perché comunque altre opere del livello di Berserk non ce ne sono. Sono tutte opere... Però sono già l'interesse per quella cosa lì. Ah, beh, sì. Per quello Tony diceva, no? Visto che sta andando, gli proponiamo anche altre cose. Sì, quello sì. Che magari... Sfruttare... Però è brutto sfruttare la morte, però effettivamente... No, però comunque voglio dire, in questo momento ha fatto il boom, la gente si prende la Berserk che intanto magari nasce anche l'interesse per vedere, aspetta un attimo, ma che ha fatto questo? Ok, la sua parola principale è quella, però magari dei volumi unici, come se ho capito bene, che io adesso non conosco troppo bene l'autore, ecco, quindi non so la lunghezza delle altre serie. Giganto Machia, mi sembra che sono due volumi, no? Eh, quindi robe molto corte. No, un solo volume. Un volume, ecco. Quindi puoi fare un one shot. Cioè, voglio dire, vai lì, ti metti a 10 euro, quel che è a 7 euro, te lo prendi. Vediamo, 7 euro lo prendi. Cioè, nel senso, è giusto da capire come l'autore. Io ho, da quando era uscito, 5 euro costava. Ma è salita, è salita a 60 euro, è salita quella là. In alcuni, nel momento della mancanza, è salita a 60 euro. Madonna, questa è veramente la cosa alluscina. Ecco, questa situazione che si è verificata, poi, perché io voglio arrivare poi a un punto con tutti voi, e soprattutto sfruttare la presenza di Tony per parlarne, questa situazione che si è generata negli ultimi due anni di questa esagerata, esagerato costo del mercato, diciamo, parallelo dell'usato. Quanto male sta facendo? E soprattutto, alla fine, come si può anche un attimo ritornare alla normalità? Perché una volta uno comprava l'usato, soprattutto manga, che praticamente uno leggeva, li pagava al 50%, almeno fino a 4-5 anni fa, penso, ragazzi, no? 4-5 anni fa li pagavi al 50%, addirittura, c'erano i mercatini online dove ti potevi prenotare, uno li comprava, e poi faceva sapere, dico, quando l'ho finito, questo lo vendo, e ve lo vendo al 50%. Diciamo, da ancora, fino al 2019, era possibile trovare le cose buone all'usato, dal 2020 in poi, è cominciato a salire i prezzi a proprio livello mostruoso. Come si è arrivati a questo? Perché? Cioè, perché 5 anni fa comprare anche Death Note a metà prezzo era una cosa possibile? Rocky Joe non valeva nulla. Cioè... Boom del manga è aumentato smisuratamente la richiesta. Forse... Eh, sono finiti i volumi. Sono aumentati anche i collezionisti, perché tanti collezionisti che poi volevano accaparrarsi le serie più rare, che erano quelle un po' più discusse anche magari sui gruppi Facebook, su varie chat, varie cose varie, insomma, hanno cercato di accaparrarsi tutte queste serie più rare, che già ce n'erano poche in giro, prezzi praticamente più che raddoppiati. Effetto scarsità. Sì. Che c'era pure prima, però. Sì, sì, allora, in parte è vero l'effetto scarsità, però c'è da dire che a un certo punto è diventato un mercato, vabbè, forse non è il termine corretto, però globalizzato, dove tutti conoscevano, cioè a un certo punto tutti si sono accorti che esiste questo mercato. E tutto questo è successo sempre, diciamo, durante il Covid, quindi la gente che si è cominciata a riappassionare a vecchie, magari, a vecchie passioni, come per esempio, anche collezionare carte, no? Come per esempio Magic, perché il più grande boom dal punto di vista collezionistico si è avuto proprio dopo, diciamo, quando la quarantena stava finendo, eccetera, eccetera. E quindi tutte le persone che avevano volumi esauriti si sono accorti che effettivamente questo è un mercato che esiste e quindi è come se c'è veramente tutti quanti si sono accorti che mi aspettavano perché dobbiamo svendere? Aspettiamo un attimo, quanto può valere questo? E quindi hanno aperto tutti quanti gli occhi da questo punto di vista. E ero cominciato a venderla a prezzo pieno se non addirittura superiore al prezzo di copertina, cosa che fino a cinque anni fa sarebbe stata incredibile, no? Assurdo, cioè impensabile. E tutto questo vuoi fumettare pure come vi siete dei posti, nel senso che poi penso che quelle serie ve li venivano a chiedere anche a voi. Eh, allora, il problema più grave, vabbè che il nostro mondo è stato completamente sconvolto da tutte queste problematiche uscite, non uscite, cioè perché noi ad oggi siamo, diciamo, abbiamo diversi problemi e sono pure problemi abbastanza seri. Dalla cosa più semplice, se un cliente X dice quando esce Manga Y io non lo so, cioè ad oggi io non lo so, non so dare meno certezze su questo. è vero, perché praticamente da quando ci sono altri problemi con la carta le date di uscita sono tutte certe. È tutto uno slittare, sì, cioè ci sono lì però come sappiamo dopo due secondi slitta, slitta. Sì, Full Metal Alchemist esempio Eclatante, 20th Century Boy, ah beh, cioè io più che altro, più che bestemmiare ogni giorno, cioè non è che potevo fare tanto, perché, perché puntualmente ogni volta che mandavi un email all'editore comunque loro non erano precisi, comunque non sapevano nemmeno loro a un certo punto, comunque, e quindi con la mancanza di alcuni volumi si andava così a pazienza, insomma. dicono alcuni alcuni li hanno aperti anche se non avrebbero dovuto, volumi tranquillamente ripetibili, si trovano al triplo solo perché è la prima stampa. Ecco, per esempio, questo è un altro discorso. Ma ecco, cosa vale la prima stampa che ormai praticamente mette solo panini mi sembra come, come dicitura, cioè, ha un valore effettivo? Allora, per me oggettivamente no, perché questa cosa praticamente viene presa più dal mercato dei giochi di carte collezionabili. Cioè, se la carta, se stampata in prima edizione ha il suo valore. Cioè, per me, però questa è un fatto mio, cioè, è una questione personale, per me non ha un valore per il semplice fatto che le prime edizioni spesso sono anche stampate male o comunque hanno problemi. Ci sono degli errori che magari vengono poi corretti. Dopo che dopo correggono. Tipo, l'attacco dei giganti in prima edizione che era sottile, sottilissimo tipo rispetto alla nuova edizione. Aveva problemi di rilegatura allucinanti. Cioè, non la vedo carina come cosa. Anche il vecchio Rocky Joe quando era uscito non era proprio dei più solidi e dopo l'hanno ristampato e adesso è molto, molto più solido, molto ben fatto. Però a livello mentale da collezionista adesso io non faccio più edizione, attenzione, quindi me ne frego. Però voglio dire, su me è la persona che è collezionista o amante di quell'opera cerca in tutti i modi di avere quell'opera ovviamente, però nella cosa più limitata possibile. Quindi la prima edizione attesta quella è proprio la prima edizione uscita in Italia che solo tot mila persone, migliaia di persone ci hanno. Quindi è un vanto extra su un'opera che per loro è magari... Però sai Francesco che penso che molte volte è più una specie di... sono più i nuovi lettori che cercano questo mentre i vecchi lettori come noi a noi nessuno di noi quattro frega nella prima edizione diciamocelo. No, non c'è niente. Per me assolutamente non capisco perché debba pagare 120 euro un'opera intera mentre con la seconda terza di Spanatampa mi costa 60-70. Io continuo a pensare che la cosa più bella dei fumetti è leggerli poi tutto il resto viene dopo. Sì, cioè io preferisco se apprezzo tantissimo un'opera tipo io mi era l'Accademia lo adoro quindi preferisco prendermi un volumetto in Giappone quando esce i film che comunque è un ricordino che c'ho me lo pago 15 euro. Ah, quello è qualcosa di unico che comunque esce veramente collezionista. Bravo. Cioè la prima edizione per me non vale veramente niente. Cioè io preferisco avere quella chicchetta in più senza strapagarla perché 15 euro voglio dire non so niente. Però c'è quel plus in più che a livello collezionistico mio personale e di vanto tra virgolette vanto possa funzionare. Prima edizione secondo me veramente non vale un tubo cioè vale un tubo cioè non flexi niente perché il volume è quello. Non c'è niente di c'è solo una di citurina in fondo. Non è una variant che c'è la copertina diversa è stata fatta per il Luca Comics 2010 allora cioè no c'è niente. quindi prima edizione zero senso. No vabbè perché ripeto si è creato una sorta di feticismo per le cose che hanno un valore però un valore che dà la gente perché comunque alla fine cioè esatto ma pure in generale è collezionismo guarda la mia libreria però magari non hai letto nemmeno il 50% della tua libreria però è bello da vedere perché sarà come oggetto di arredo a volte no? Quindi più persone mi hanno detto molte volte la gente compri manga più per esporli lo facciamo anche noi ma fortunatamente li leggiamo anche se poi dopo te li te li te li leggi ovviamente è l'oggetto manga sicuramente è cambiato parecchio abbiamo ne abbiamo parlato tante volte comunque è diventato anche bello questa attenzione però alcune volte è veramente feticismo perché vedo persone che si triggerano per le costine in una maniera incredibile speciale gli editori sempre di più stanno facendo edizioni belle passami il termine perché cercano sempre di farle sempre più belle esteticamente più pregiate così in collezione stanno meglio figurano meglio se ci pensi poi Tony ci potrà anche dire come sono minuziosi magari nella scelta in fumetteria del prodotto del Tony scolta però qua c'è me la cambia sì sì sempre sempre sì sempre sempre tipo il cliente quello ha fissato che prende il manga se lo controlla si controlla la fila no? e qui se lo controlla microscopio ottico per vedere quindi e si controlla però io capisco come cosa che comunque infatti sono comprensivo su sta cosa però se compri un prodotto lo vuoi anche diciamo così in condizioni Tony cosa cambia il lettore per esempio dei comics americani l'altro giorno stavo in una mia fumetteria dove già gente di tutta l'età anche più grande di me pensate e i lettori di comics sono abbastanza fissati ho visto discutere cosa che i lettori manga di solito dove vado io non si compriano il manga se mi vedono qualche chiacchiera sull'edizione c'è ma non è che stanno là a discutere su qual è la trasposizione cinematografica sugli errori della trasposizione cinematografica come la vedi la differenza tra il lettore di comics e il lettore di manga allora partendo dal presupposto che vabbè io io da lettore leggo un po' di tutto quindi non mi sono mai fatto dei preconcetti però i lettori di comics sono quelli che hanno più preconcetti di tutti cioè sul fatto che nel momento in cui tu leggi manga stai leggendo una cosa stupida e allora vedi non sono l'unico a pensarla questa cosa non la pensa non la sapevo no no mi sono sempre trovato invece in queste situazioni in cui io ero quello che leggeva le cose per bambini e anche un po' porno e loro leggevano le cose seri un po' porno mi piace un po' un po' non avevano mai il coraggio di arrivare a dirlo però fondamentalmente il discorso era ti leggi ste cose da pervertito ancora alla tua età cioè cresci cioè io leggiti tot titolo che non voglio dire però erano anche bei titoli che ho letto perché dicevo scusa perché io leggo un manga non vuol dire che non mi leggo quel titolo lì però vabbè io questa cosa l'ho sempre riscontrata un po' questo razzismo può essere no no ma a volte loro appunto hanno questa convinzione che in termini di contenuti magari il fumetto americano offre di più rispetto al manga che viene visto in maniera molto più appunto infantile come diceva Alessandro però sono preconcetti stupidi perché spesso comunque mi sono trovato a parlare io ripeto passo dalla lettura come 13 a che ne so a Dragon Ball no quindi non mi frega perché ogni il fumetto offre dei contenuti che vanno visti tutti cioè ogni contenuto vale la pena ispezionarlo diciamo comunque sì è vero sono molto fissati un po' un po' nazi su certe cose diciamo anche perché comunque io leggo i fumetti con i supereroi ci sono delle opere belle però anche da dire che se uno andasse a Freconcetti lo vieni in calzamaglia lo leggi ancora te cioè il fumetto è bello tutto ci sono degli autori fondamentali però forse la forza del manga io quello che spiego sempre anche a chi dice perché legge ancora manga è il fatto che sono storie che hanno una loro conclusione che quindi dove c'è anche un forte potere immersivo e empatizzante davanti al fatto che comunque puoi trovare personaggi con cui rispecchiare anche la tua vita o personaggi con cui tu ci puoi immedesimare e comunque hai sempre comunque una grande varietà nel manga di storie e di generi cosa che nel fumetto del resto del mondo c'è però non in versione così enorme come quella del manga quello sicuramente è un discorso da fare però poi ripeto non dobbiamo fare anche noi l'errore di giudicare i metri occidentali come cioè ci sono opere come per esempio Watchmen che io consiglierei a chiunque cioè sono quelle opere imprescindibili secondo me se ti piace il fumetto al di là del manga però è brutto vedere ancora oggi purtroppo una situazione in cui c'è ancora tanto preconcetto lo vedo anche nel nostro settore quello in cui facciamo diciamo divulgazione in cui mi trovo a dovermi scontrare con le fiere quindi questa cosa l'hai riscontrata anche te sì 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 è una cosa molto diffusa in realtà quindi è proprio cioè è visibile proprio questa cosa quindi non si nasconde non si nasconde dicono che il sconto tra i fandom dei comics ci sono da decenni ora però si stanno diffondendo anche in quelli dei manga però mi ricordo che c'erano in quelli dei manga cioè mi ricordo i sconti fra chi odiava Evangelion e chi non odiava Evangelion fra i cavalieri dello Zodiaco non ne parliamo di fandom proprio contro i cavalieri dello Zodiaco tu adesso vi vedete questo sconto fra i fandom e quali sono questi fandom a questo punto stavo pensando nel mio gruppo che di solito flammano abbastanza su delle bagianate che per me sono bagianate c'è chi secondo me c'è molto un po' un po' di fandom che si atteggia no? che a volte su quei manga un po' più mainstream che vendono tanto devono fare quelli con la puzza sotto il naso ah beh quello sì quello tanto secondo me e se una cosa diventa mainstream automaticamente ah no allora è una merda Demos Leader quando è diventato mainstream era la merda o Jujutsu Kaisen ma anche Your Name voglio dire Your Name quando è uscito tutti bene o male l'hanno apprezzato dopo per fare vicissitudini boom milioni milioni ma ora sto vedendo anche su Censomen ci stanno un discreto anche perché i fan di Censomen ho visto a livello internazionale sono belli forti cioè sono abbastanza cacacazzo se ne dite da quello che leggo su Twitter quindi ci sta sempre un bello scontro qual è il fandom peggiore secondo te Tony che rivedi quello più tossico guarda ti mettiamo in difficoltà eh sì è una domanda abbastanza complicata però sicuramente penso sono schiavi di Makima magari sì sì Makima piace parecchio pure a me molto più di Power no penso che comunque le ragazze sono le peggiori da questo punto di vista cavolo ti stai prendendo delle responsabilità infatti adesso no nel senso che la maggior parte delle lotte speriamo che arriva Laura presto dai soprattutto soprattutto per quanto riguarda le coppie cosa ah le ship le ship sì 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 ma quello sempre quello sempre ragazzi quello penso che sia motivo di discussione proprio in maniera ma anche in fumetteria fanno queste discussioni eh purtroppo sì purtroppo Tony che le va a attaccare che si picchiano cioè no questa cosa vedi io frequento una fumetteria boomer cioè spiegami perché io non ho visto è l'alese boomer beh perché comunque sostanzialmente in qualsiasi storia ci sono degli indizi su chi magari dove c'è un'attrazione tra due o più personaggi e praticamente secondo loro si va a litigare sul fatto che sia più canon un tipo di coppia rispetto a ad un'altra e quindi però roba seria c'è il tipo è impossibile che e quindi però sono discussioni incredibilmente serie capito e io sono assolutamente poi tra l'altro c'è gente che scippa cose incredibili e discussioni su questo quello diciamo però è anche il divertimento penso di quel tipo di fandom che sicuramente vive molto su questa cosa però mi aspettavo dal vivo mi aspettavo su una cosa più online no no dal vivo succede succede cioè si mettono là in fumetteria io sono per questo io sono per quell'altro vabbè si inizia sempre col partire questo qua cioè vabbè questo qua è il personaggio più carino partendo da questo presupposto base ecco poi da lì poi arrivano poi tutte le varie scippi vari legami collegamenti perché secondo me però ci sono pure delle teorie interessanti in generale che loro proprio si impegnano per tutti i legami secondo me perché in questa parte è successo quindi sicuramente questo personaggio tiene più a quell'altro e quindi nascono queste cose anche se magari due personaggi non si sono mai cagati in realtà però però esatto eh vedi invece noi maschietti su queste cose questo è un pochettino più cioè nel senso io vedi i discorsi che faccio il fandom di quintessential quintuples dai dillo Francesco dai no ma adesso quello c'è anche tra i maschietti eh sì 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 no ma lì è una cosa cioè le gemelle sono una cosa unica ma però tutto il resto come state adesso vedendo in chat che stavo parlando con i regaz insomma noi siamo un pochettino più alla mano no? vuol dire che tu non hai mai fatto una discussione sulle gemelle sì ma sulle gemelle è un fandom le gemelle sono uniche Ale cioè le gemelle sono lassù che governano i pianeti e con loro si può discutere ma tutto il resto è tutto pari livello capito? noi non ci mettiamo sopra siamo sempre pari questa gemellina è meglio di quell'altra no? quello sì 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 ma infatti le gemeline ci sta a flammare e discutere e le waifu perché non ti si discute mai per le waifu ma io personalmente no io ho visto amicizie finite per le waifu sì ma io sono una persona che a me vanno bene tutte non ho dei non ha vizi non ha vizi no no certo ma tutti uguali soprattutto con Evangelion ragazzi la battaglia più eh immagino quella più potente è per Ray e non c'è storia Ray Asuka misato non c'è storia non c'è storia però quando c'è Asuka basta i fandom di Evangelion sono un po' precisini secondo me o no Tony comunque so che è se siete un po' precisini o sbaglio sì su questo sì però c'è questa eterna battaglia tra Ray e Asuka è proprio per forza non l'ho mai capito perché proprio non c'è mai stata storia quindi tu che sei che team sei Tony purtroppo lo devo dire no Ray perché spiegami a questo punto voglio capirlo no ma perché va di moda dire l'altra allora lui dira quella lì no no perché posso capire misato perché gnocca sicuramente cioè la più gnocca di tutto comunque non si butta via però ragazzi non lo so mi ha sempre attirato particolarmente Ray non lo so perché perché forse Asuka parla troppo a me piacciono le zunderine no Ray è sempre affascinante a me piacciono proprio le tipi stronze negli anime non ci posso fare per esempio Macchima Zunderine è parecchio purtroppo mi sta attizzando parecchio devo dire la verità te Francesco noto conoscitore di dell'argomento di donne 2D di donne Massimo Macchima 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 Power per esempio successo guarda è tanto difficile questa qua sai che Michele ti fa sempre le paternali sui manga che escono i collegamenti tutte le cose ti posso fare la stessa cosa su questa cosa faccela faccela no ma è difficile guarda che questa qua è una situazione delicata perché comunque già abbiamo una rossa da un lato voglio essere calpestato e una bionda dall'altro quindi abbiamo due già entità mistiche bionda e rossa c'è già qua comunque però quell'altra è tutta finta dai cioè tette finte poi è pur un demone ma adesso perché Ale c'è quella curiosità quella voglia di scoprire di più perché vedi la sfrenatezza no sì cioè guarda poi dipende molto anche dal momento dalla situazione no anche caratterialmente come sei messo stai leggendo non stai bene insomma io ti dico entrambe vedi meglio non buttare via niente ma se non te invece Francesco qual è stata la donna del mondo manga anime del 2022 ma vera cioè donna inteso no no personaggio quando si parla con te si parla di ragazze 3d 3d lasciamo stare spero che ce ne sia solo una la donna la tua salute la donna adesso mi scappa il nome datemi un secondo che lo cerco perché i nomi sono un disastro ma il nome ragazzi cioè quella di my dress up darling la bionda michele marin 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 ecco bravo marin ragazzi è pazzesca cioè lei veramente è una dea è una bellezza unica semplice perché ha tutto questo successo una dea dovete spiegartelo al abbiamo visto anche il manga va molto bene quindi penso che sia soprattutto per il plot no tony penso che sia per quello non certo per il protagonista maschile che fa le bambole non penso possa interessare più di tanto ha detto così ha le bambole un po' cattivo sei vabbè è quello che fa però dai come dire ha una crescita personale importante però dai diciamo vando alle cazzate ma pure perché è una cosplayer pure è una cosplayer appunto penso che ci sia una sorella una del nostro mondo dai no io leggevo tipo Yoriko Tiger che lei diceva quando è uscito che l'apprezzava molto perché era finalmente uno dei pochi manga sul cosplay fatto bene quindi per dirti anche quindi ragazzi che non cercano che non cercano quello come cerco io però l'hanno apprezzato quindi vuol dire che comunque è utilizzato cioè nel senso è letto sia da maschietti ma anche da ragazze che non cercano quel tipo di contenuto ma cercano comunque qualcosa sul cospe che è la loro passione quindi su me è questa parte qua che l'ha fatto anche vendere così tanto in Italia poi non so tony da te se i maschi sono maggiori nell'acquistare questo manga o magari invece bene o male ci sono anche ragazze l'inizio diciamo è abbastanza plottoso e beh devi invogliare comunque poi adesso io sto seguendo l'anime ho letto solo il numero uno del manga e fa il suo poi purtroppo come stesso sta dicendo Dario poi un po' di fanservice dopo va ti dispiace rimane solo il cosplay il cosplay è un punto in più diciamo sì è un punto in più anche perché chi fa cosplay di lavoro dice che comunque è fatto bene eh tony tu che sei un aspetto conoscitore avete fatto cosplay e fate cosplay ancora tantissimo voi che seguite il cosplay ci siete un po' ritrovati in questo fumetto lo racconta seriamente o è no no lo racconta molto pure le tecniche pure la ricerca della parrucca di un determinato colore la ricerca del materiale molto molto fedele cioè si vede che magari c'è qualcuno dietro che magari non so è stato cosplayer magari non lo so però c'è una ricerca comunque precisa mi pareva strano non ci fosse mai stato in effetti recentemente niente che parlasse del cosplay in questa maniera cioè io non mi ricordo di anime di successo manga forse manga sì però anime no che parlassi in maniera fondamentalmente fosse un argomento importante all'interno della storia come in questo caso no così no cioè così ed è strano perché comunque diciamo cosplay anime e manga sono più o meno lo stesso dovrebbero andare tanto eh beh sì soprattutto in Giappone molti che del resto del mondo non so secondo me forse perché nessuno mai ha avuto il coraggio di raccontare questa cosa forse perché viene molto banalizzata come tra virgolette anche come arte perché comunque le persone che si cimentano comunque a volte pure in termini costruzioni di armature costruzioni di accessori comunque non è semplice eh no se lo fa da solo soprattutto si fa un discreto mazzo sì 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 esatto e quindi però in Giappone comunque non è che viene vista come una cosa penso buona insomma perché tutto quello che abbiamo scoperto che Enako che è la cosplayer più famosa del Giappone ha guadagnato 200 milioni di dn quanto ha guadagnato l'altro giorno è uscita la notizia ah no non ho mica l'attuale una cifra spropositate quindi comunque i cosplayer professionisti in Giappone sono super pagati anche perché poi c'erano le partnership con sai solo Square Enix eh beh con Bandai Square Enix solo quelli lì con tutti poi ci sono miliardi di giochi quando io vado in Giappone sono miliardi di giochi per telefonino anche no che escono in cui c'è una waifu cioè voglio dire tutte queste ragazze qua possono lavorare a stretto contatto con queste migliaia di aziende che erano videogiochi quindi sono migliaia di cosplayer che lavorano eh in Giappone in Italia invece questa cosa qua non è possibile o meglio sono quasi stupito la prima volta l'unica volta in realtà che sono andato al comic che sono andato a vedere facciamo un caldo bestia perché l'agosto del comic è testivo e praticamente i cosplay non stanno all'interno del big site lì si vendono i manga stanno sopra stanno sopra in terrazza quindi stai proprio praticamente sotto il sole addirittura mi ricordo questi cosplay che avevano il ghiaccio quello istantaneo che si mettevano sotto i costumi perché se no morivi stavi ore e ore tutto il giorno là sotto però la professionalità no si mettevano lì anche se stavi in un terrazzo tutti avevano la loro fila che dovevi rispettare e tutti dovevano scattare la foto rispettando la fila anche se avevi un cellulare o essere un fotografo professionista non lo sapevo perché non l'ho mai visto cioè quando sono andato al Tokyo Game Show non ho avuto il tempo materiale di andare nella zona cosplay perché anche al Tokyo Game Show i cosplay non possono girare liberamente per la fiera ma sono isolati in una zona si anche lì fondamentalmente stanno solo nella zona delle terrazze diciamo molto simile che posso dire a Romics che ci sta la zona degli specchi che hanno che quello mi ricorda forse è l'unico posto che mi ricorda effettivamente qualcosa di simile al Comiket che è un'area dedicata prettamente soltanto ai cosplayer dove effettivamente provano a fare la stessa cosa ma lì ovviamente vengono cosplayer da altri mondi a livello altissimo e rivedresti un sacco di plot guarda che in realtà per esempio pure il livello del cosplay italiano forse è quello più cioè ha dei livelli altissimi non adesso ma almeno 3-4 anni fa calcola che l'Italia ha vinto almeno per 2-3 anni consecutivi il World Cosplay Summit quindi roba assurda insomma appunto poi magari c'è da dire questo che oggi magari va più i cosplayer per i follower e non quello che magari sa fare effettivamente qualcosa ah ok la costruzione del prodotto quindi quello più per la fotografia che poi su Instagram esatto oggi si va più alla ricerca dello scatto importante piuttosto che diciamo il costume perfetto comunque sono pure abbastanza ritoccate quelle foto perché vedo alcune che sono fondamentalmente alcuni artifici fotografici questo si parla anche in The My Dress Up Darling hai visto come troccano le foto per farti un portafolio dici Francesco io mi ricordo quando andava alla festa dell'unicorno che lì c'era la gara cosplay che la trovo fatta veramente molto bene anche perché invitavano una giuria composta da persone anche di fama internazionale mi ricordo Jessica Nigri che poi vabbè può piacere o meno chissà perché ti ricordi comunque c'erano anche anche altri cosplayer insomma e quindi una delle delle domande era sempre il come hai come hai creato il tuo cosplay dunque dopo gli spiegavano il tipo di di materiale utilizzato e tutto ciò che che ci andava dietro quindi lì non è che guardavano solamente la resa del costume ma anche cosa hai fatto prima per per farlo e mi ricordo che c'erano delle robe veramente pazzesche cioè dei lavori incredibili veramente qui intanto si svelano altarini però vabbè lasciamo stare ma anche ma anche la sopra autografato da lei comunque vabbè lascia stare il normalone è il normalone com'è adesso la situazione cosplay Tony invece nel 2023 cioè io l'ho vista un po' cambiare effettivamente infatti sì quello che stavo dicendo prima vabbè il covid ha ammazzato proprio la competizione quindi eh sì tant'è vero che a questo romics è successo cioè si è verificata una cosa assurda che per la prima volta non ci fossero persone diciamo che andassero per il VCS cioè come competizione cioè non c'erano pretendenti non c'era nessuno che ah questo non lo sapevo sì 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 cioè ricordiamo non c'erano partecipi è il mondiale quindi a Romics si decide l'edizione primaverile mi sembra chi partecipa al come rappresentante dell'Italia a quelli che sono i veri e propri mondiali di cosplay che si tengono a Nagoya esatto e non c'erano partecipanti per quella categoria per quella assurda questa cosa mai successo in anni che io seguo il cosplay con diciamo con amore ma mai vista una cosa del genere però poi con il covid la via alternativa del cosplay era appunto fare tiktok mettersi diciamo più in mostra sui social e quindi pian piano diciamo veniva abbandonata un po' l'idea della competizione e quindi si è avuta questa evoluzione diciamo del cosplay da questo punto di vista o involuzione dipende dai comunque le gare cosplay comunque a Luca no ci sono ci sono ci sono sempre però comunque è cambiato un po' il modo di fare cosplay magari le persone che cioè si impegnano per la costruzione magari sa un po' di meno mentre invece va di più magari gareggiare giusto lo sfizio di gareggiare ma senza essere competitivi ma essere competitivi però sui social ecco questo questa è la cosa ma invece i grandi nomi del cosplay tipo un Leon Ciro che ti posso dire come una Giada Robin che ora mi sembra non faccia più neanche il cosplay cioè ci sono adesso delle nuove leve che possono prendere il loro posto perché il tempo passa immagino sempre che ci siano giure oppure perché non vedo nomi così importanti come c'erano prima o sbaglio è una mia sensazione no no su questo si è ragione perché poi girano sempre i stessi nomi alla fine vedo sempre gli stessi quelli che c'erano anche dieci anni fa per dire però adesso diciamo i cosplayer più conosciuti sono quelli che fanno numeri grossi per esempio su TikTok cioè questo è una cosa proprio inevitabile cioè adesso la crescita del cosplay si sta avendo su TikTok quindi cioè al momento cioè non sono molto informato appunto sui vari tiktoker però in generale il cosplay su TikTok sta andando forte non lo sapevo questa vedi è una cosa anche io lo sapevo però giustamente è vero perché su TikTok comunque la maggior parte dei ragazzini sta lì e quindi le nuove leve di influencer eccetera eccetera nascono lì quindi anche i cosplay se lo porti da lì poi dopo noi che lo conoscevamo tramite le fiere magari le gare adesso invece loro lo conoscono così e quindi poi senza una gara senza niente in base ai numeri scelgono insomma chi è più bravo e chi no ecco esatto allora allora ti volevo scusami ma nel frattempo mi arriva 800 messaggi sempre di qualcosa che bisogna fare perché il sito non va mai in pensione e quello che volevo dire volevo fare una domanda a Tony e poi fare una domanda a tutti su una cosa che ho letto online che secondo me può essere un bello spunto per parlare proprio di quello che sarà il mondo del manga il manga verso nell'anno che verrà quest'anno che stiamo proprio agli inizi innanzitutto Tony volevo sapere qual è stata la sorpresa quello che non ti aspettavi vendesse che invece ha avuto successo allora 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 per esempio tra i manga di nuovo uscita ovviamente sì 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 quelli dell'anno scorso allora per esempio non mi aspettavo che vendesse Dragon Maid no sì perché ce l'hai detto prima che va molto bene cioè nel senso cioè personalmente non ci avrei scommesso pure perché è lontano dal mio genere però però in generale secondo me è quel tipo di opera che nasce dall'amore per l'anime molto probabilmente un po' come le gemelle no beh ha quel pubblico lì c'è comunque un pubblico che ama il prodotto anche perché era fatto molto bene l'anime non è il mio genere lo ammetto però so che ha molti stimatori di tutto poi è soprattutto sia uomini che donne mi immagino quindi sì sì ma anche per esempio anche come ultima battuta anche roster fighter era sì quello del polvo anche quello amoroso pure su quello non ci avrei scommesso un euro eppure è richiesto per me è così strano per me è una cazzata l'ho letto ed è geniale è veramente geniale io ho paura dei polli quindi non l'ho mica letto questa cosa che è paura dei polli però mi fa sensi polli quindi quindi non li mangi non mangi i polli no no mi fa proprio senso cioè proprio mi fa senso cioè non è un casino è la fobia di francesco è la fobia cioè se io vedo tipo anche un piccione dalla strada in mezzo alla strada io faccio il giro qua a Roma siamo pieni di piccioni io mi ritrovo anche in casa io mando avanti la mia ragazza o faccio il giro cioè non è che c'è mando avanti la mia ragazza la mando avanti e farlo andare via meno male non vivi in posti come il nostro qui è pieno di piccioni quindi non è un manga per me però sono interessante un po' come quando è riuscito per Planet quel volume cioè quel box vi ricordate anche lì per il per il pollo che c'era Kiri Kiri Killer ah ecco che poi è ricercatissima che è la variant tipo c'era quella confezione particolare no? sì con dentro c'era tipo del fieno dentro cosa c'era? sì c'era il box con il fieno i volumi era tipo un pollaio era fatto a forma di pollaio però vedi quello lì nel senso non deve star male cioè a livello stupidino ecco però a suo perché a suo perché però c'è il collezionista che è fiero di far vedere questa cosa no però dai voglio vedere il pollaio variant per il mio pollaio vieni con me il signor Amadori la persona più pericolosa della storia via vi leggo questa cosa che è una provocazione che ha fatto un giornalista che si chiama Gian Maria Tammaro che è giornalista che lavora proprio per la Repubblica che lavora per diversi giornali ha intervistato comunque è anche famoso nell'ambito comunque pop ha intervistato parecchi personaggi del mondo del cinema delle serie e tutto e parla ogni tot di fumetti lancia delle provocazioni allora lui dice che fine hanno fatto i fumetti nelle classifiche dei quotidiani sono praticamente scomparsi hanno il loro angolo la loro colonna e solo ogni tanto riescono a finire in quelle generali dedicate ai libri più venduti l'unica eccezione è per a Toons ma forse non ha nemmeno senso citarlo per parlare dello stato dell'editoria italiana dei fumetti perché appunto è un'eccezione non la regola vende e vende tanto e si rivolge a un target che nessun altro autore sembra voler prendere in considerazione una volta c'era CEO oggi semplicemente non c'è più Zero Calcare resiste e continua a parlare a un lettorato specifico Bao Publishing ha annunciato che il suo ultimo fumetto ha superato le centomila copie ma gli altri anche i manga che fine hanno fatto dopo l'acquisizione di Star Comics da parte dei mondatori le cose hanno preso un'altra piega l'entusiasmo condiviso dei discorsi mesi rilanciato più e più volte anche sui social ha subito una battuta dal resto e non ce ne siamo resi conto o forse sì ce ne siamo resi conto abbiamo preferito far finta di niente il fumetto italiano fa fatica a parte il già citato per a Toons non ci sono altri autori capaci di entrare in classifica imporsi e ritagliarsi uno spazio preciso tra critica e pubblico il fumetto giapponese ha rallentato va bene per carità ma non fa più gli stessi numeri di due anni fa gli editori stampano edizioni di pregio ricercatissime estremamente costose e spingono sui loro shop online vedi per esempio Panini gli unici che sembrano avere un'idea chiara della direzione che stanno seguendo sono edizioni BD e J-pop che fanno parte dello stesso gruppo Salda Press e Cocorino Press cioè sono i tre editori che secondo lui hanno fanno stanno nella giusta direzione gli altri annaspano ed è evidente la speranza per molti è l'arrivo di un anime basato su una serie che stanno già pubblicando un rilancio di un titolo che per molto tempo è rimasto fermo One Piece della gallina delle uova d'oro è un'altra eccezione ma è un'eccezione a livello globale probabilmente il nostro mercato in tutte le sue forme non è riuscito minimamente a sfruttarla il film red è andato bene alle anteprime in lingua originale e male nella programmazione regolare rendiamoci conto non sono finiti i soldi dei lettori anche se è finito il tempo e bisogna scegliere cosa fare un mercato non si può costruire sulle eccezioni come per Atunz Zero Calcare Sio a volte e i manga ha bisogno di regole e di una struttura l'editoria italiana a fumetti ha dimostrato e continua a dimostrare tutta la sua limitatezza provinciale e questo è un fatto secondo me ci sono alcune cose che ti posso dire ci sono degli spunti di riflessioni altre mi sembra un po' delle castronie tipo che il manga abbia calato non lo so mi spiego meglio io a Lucca ho visto vabbè che era la prima fiera dopo il covid importante però ho visto un'affluenza enorme soprattutto verso il Giappone cioè verso dei autori giapponesi e poi è normale che un pochettino di vendite forse diminuiscano anche perché la gente stava in casa a non fare niente durante il covid quindi è anche normale adesso la vita è ricominciata se io prima non andavo in Giappone avevo quei mille euro in più all'anno da poter spendere in manga o videogiochi adesso invece quei soldi lì vengono spesi anche per altro quindi un po' di calo ci sta però io non ho visto tutto questo calo nei manga ecco poi a parte le situazioni su youtube ma quello è un problema purtroppo di youtube però io non ho visto cali nell'ambiente personalmente poi Tony nel senso lui vende quindi saprà dircelo meglio di noi cioè io non ho visto questa cosa qua poi ti posso dire la cosa dell'editore aspetta che l'anime tira ti posso dire in effetti se l'anime va l'autore ne giova ecco questo è inutile a nasconderlo o che se magari torna in voga un'edizione come Rocky Joe a caso allora l'editore lo tira fuori però per il resto insomma non lo so non mi sento di esprimi più di tanto una critica molto molto severa forse troppo secondo me poi non lo so mi sembra veramente troppo perché io non ho visto questo calo che lui mi lancia a meno che uno non analizza però ragazzi prima stavi in pandemia stavi chiusi in casa adesso è normale che uno c'è meno tempo per la lettura è normale allora secondo me non a parte che l'autore non non contestualizza tutto quello che sta succedendo e non cioè senza avere comunque senza fare un quadro no su quello che sta passando la nostra società cioè nel senso cioè è chiaro che ci sia un calo però non puoi dire c'è stato un calo e basta cioè un calo su tutto su tutto cioè non è che tu puoi dire c'è un calo nel manga no devi analizzare il fatto che c'è un ragazzo di guerra e che c'è l'inflazione e che oggi il latte costa un euro e cinquanta prima costava un euro tantacene non lo so però dico non è che puoi cioè riassumere tutto il manga non vende più cioè devi contestualizzare cioè di cosa sta succedendo è chiaro se una famiglia prima davano al ragazzino che ne so x euro adesso ne dà di meno perché comunque ci sono altri problemi però comunque penso che sia un articolo diciamo fatto così è un post sui social cioè è un post fatto comunque senza contestualizzare tutto quello che sta succedendo è come se che ne so è come essere fuori dal mondo cioè chi ha scritto questa cosa del genere io comunque ovviamente l'autore ogni tanto mi scrive non andiamo sempre d'accordo però lo stimo quindi se vuole però ecco visto che comunque lui ha questa tendenza a scrivere post per cercare di provocazione forse un po' provocare l'ambiente che ci sta che ci sta però devo dire una cosa cioè nel senso allora innanzitutto relativamente al manga al fumetto in generale l'idea della contrazione lo dicevamo da tempo è ovvio che non poteva andare sempre a quei numeri lì come sta spiegando ha detto Francesco anche una cosa intelligente nel senso che fondamentalmente finita la pandemia il tempo è molto meno i soldi sono molto meno e i numeri ma fondamentalmente però di tempo e di soldi proprio per l'intrattenimento diminuiscono quello sicuramente quindi la contrazione c'è cioè la gente ovviamente deve fare delle scelte quindi è ovvio che comunque mantenere ma lo dicevano tutti gli editori ne parlavamo con Po Socco di Star Comics nell'ultima volta che è venuto qua lui ha detto guardate che la contrazione è già in atto perché comunque la disponibilità è minore il discorso invece relativo a essere provinciale dell'editoria fumettistica italiana boh ma quello è un altro problema però cioè quello è un problema che il mercato italiano che se vogliamo parlare per esempio di Bonelli non si è saputo rinnovare cioè non si è saputo offrire qualcosa di nuovo qualcosa di che attiri anche i ragazzini qualcosa di più cioè nel senso cioè è un mercato capito troppo stagnante ora prova a entrare sul mondo del digitale però sono sempre titoli diciamo che non attirano un pubblico nuovo poi scusate anche la cosa che gli editori che si stanno muovendo meglio io credo che invece Star Comics si stia muovendo molto bene che invece nell'elenco diciamo che si leggeva un belato attacco a Star Comics Star secondo me invece è da qualche da diversi mesi si sta muovendo secondo me invece molto bene l'abbiamo visto a Lucca cosa ha fatto sta puntando anche sullo streaming a Lucca con delle postazioni fatte in maniera egregia questo attacco qua anche verso di loro invece Panini ti posso dire è vero ha fatto delle cavolate durante l'anno credo che sono tutti d'accordo Star Comics si lo vista muoversi molto bene quindi questa cosa qua Panini Franci è un colosso che comunque si fa le cose loro dei titoli che sono ottimi che si vendono praticamente da soli da soli infatti loro vendono se posso fare una critica la faccio all'editoria in generale nel senso che l'editoria purtroppo attualmente parlando uscendo dal mondo fumetto se poi andiamo a vedere si tende a questa bulimia di titoli che arrivano in libreria che sono tantissimi ormai gli editori non solo manga ma gli editori dico proprio di libri normali di romanzi di saggistica tendono a far uscire la qualunque pur di riempire lo spazio in libreria esatto una guerra per riempire gli scaffali fin troppa roba quello nel senso adesso c'è veramente tanta roba vediamo anche ma questo succede anche nell'editoria normale cioè nel senso si tende assolutamente e quindi c'è il provincialismo forse non lo so contestualizzare come diceva bisogna contestualizzare che comunque sia Star Comics che J-Pop hanno utilizzato anche tantissimi strumenti moderni social le live cioè sono degli editori che sono comunque molto attenti cercano anche un certo tipo di dialogo quindi da sto punto di vista mi sembra che stiano facendo quanto possibile forse non si dà troppo spazio ai giornalisti della carta stampata questo è vero questo è vero si sentono esclusi da quel punto di vista e questo è vero però in parte o non lo so però ecco non li vedo ma diciamo che i giornali al di là del trafiletto hanno sempre dedicato poco anche la televisione nazionale sì in tutta sincerità anche nel mondo del giornalismo quando esce un articolo a volte si vede anche poca competenza sul media quindi si fa anche difficoltà da questo punto di vista secondo me a coinvolgere se non c'è un vero giornalismo che trasudi anche un po' di competenza un po' di che si sappia muovere perlomeno in mezzo al media e spiegare cose in modo concreto in modo esatto in modo anche coerente a volte si leggono anche delle belle castronerie quindi ecco per esempio giornalisti veri in certi ambiti per esempio io ho visto Fornasiero di Wonderland e basta sì Wonderland è un bellissimo programma per esempio di persone che fisicamente facevano quello che facciamo noi cioè anche presentavano gli ospiti a Luca Comics per esempio una gabbe l'ha presentato Fornasiero cioè questa presenza che non c'è sempre sulla stampa però secondo me ha gettato un discorso che è quello che sarà secondo me l'elettomotive di tutto l'anno dove stiamo andando cioè quale sarà adesso lo sviluppo perché abbiamo sempre detto le solite cose le variant abbiamo straparlato abbiamo fatto gli eventi dal vivo anche a Luca ma ora c'è da dire effettivamente stiamo vivendo un momento ancora buono perché comunque ancora tanti titoli i manga vendono Tony del testimone le variant hanno un grande successo perché che se ne parli male 8000 persone non stanno in fila a cazzo di cane se non sono interessate la mattina alle 10 per comprarsi la variant Eclipse di Berserk insomma i numeri ci sono però qualche si sta vedendo che comunque piano piano una contrazione c'è dove arriverà tutto questo cioè torneremo allo stato pre-pandemia questo stato di benessere del fumetto verrà mantenuto cosa devono fare gli editori cosa dobbiamo fare noi del settore per cercare comunque di mantenere questo status positivo secondo me bisognerebbe andare pure in controtendenza su certe cose cioè del tipo il fumetto sappiamo tutto che è un prodotto popolare quindi puramente popolare quindi cultura e bisognerebbe tornare e dare la possibilità a tutti di leggere con formato cioè con formati economici cioè 520 mi sta bene cioè il prodotto lussuoso ormai in quanti se lo possono permettere cioè nel senso visto l'andamento bisognerebbe ritornare ad offrire un prodotto popolare che tutti concordo con te Tony perché non è solo una l'edizione lussuosa adesso cominciano ad essere tantissime non è più tipo l'eccezione c'è quel manga figo allora l'edizione lussuosa lo prendo in quell'edizione ma il lettore medio attuale cioè quello che vuole però l'edizione da flexare vorrebbe un'edizione economica ma è una bolla no secondo me non c'è bisogno di avere un'edizione del genere nel senso che ovviamente non so però di tornare le sottilette ci mancherebbe no 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 però il prodotto il manga standard di 520 è un prodotto che funziona che funziona si legge bene è una buona qualità sì magari il ragazzino invece di leggersi una storia se legge 3 si appassiona ancora di più cioè quello è il punto cioè diciamo che c'è un bivio secondo me in quanto azienda diciamo che il loro scopo è inutile nascondere è guadagnare è inutile quindi loro vedono che facendo queste edizioni lussuose vendono magari meno perché di sicuro venderà meno però guadagnano e guadagnano bene se perdi clienti però è un problema cioè nel senso che ecco bravo cioè poi essendo che comunque il manga è cultura cioè nel senso è lettura ti fa bene no? poi a parte le storie dipende sempre cosa ti leggi però voglio dire ti apre no la mente il modo di parlare quello è un po' porno un po' porno quindi voglio dire bisognerebbe come ha detto Tony secondo me rendere accessibile o cercare di rendere accessibile bene o male a tutti questa cosa poi comunque insomma abbiamo visto che se anche vendi tanti 5 eventi anziché pochi 18 euro a volume comunque guadagni lo stesso voglio dire i fatturati degli editori a 4,50 non ne vedremo più comunque purtroppo 4,50 no però in Francia per dire sono usciti con delle linee molto economiche in Francia sono usciti così dal nulla che ci sono delle linee molto economiche che costano tipo 3,50 3,70 una cosa del genere però vedete il problema è che comunque il trend è molto in alto nel senso che comunque anche l'ultima Star Comics è equiparata e comunque rimane bassa cioè la media è per un normale manga tanko buone sui 6,6,6,50 adesso la media è generale sì sì io ho paura che non si torna più indietro però perché purtroppo ormai la cifra è quella abbassarsi è strano cioè nel senso sappiamo benissimo quando alzano i prezzi è strano che dicono no ragazzi sono sbagliato l'anno prossimo torniamo a 4,50 spero però che si stabilizzino perché il ragionamento che ho fatto io e mi sono trovato tante persone che prima compravano tanto a dire in effetti hai ragione è se prima sbattevo via magari quei soldini in più per fare delle prove di lettura su volumi da 4,50 adesso che costa 6 euro ok sono 2,50 euro però sono un pochettino più mi tiro un pochettino più il freno a mano ecco da dire compro solo quello che secondo me potrebbe veramente funzionare lo provo tanto per sono un pochettino più titubante nel farlo e vedo che tante persone comunque la pensano più o male come è messo questa cosa poi Tony di sicuro ha gli esempi pratici in infometria quindi chi meglio di lui ce lo può confermare oppure no questa cosa se ha visto magari della gente anche fra io spero che oltre a stabilizzarsi che si inizia a pensare anche delle promozioni per promuovere determinate serie determinate cose perché per un po' ne hanno fatti sti manga anche primo volume a un euro però sono sempre meno sono sempre meno io quando sono stato in Francia da un'occhiata alle fumetterie ho notato che di tantissime serie anche soprattutto le più popolari per promuovere la lettura ci sono i primi due volumi al prezzo di uno ci sono tantissimi pack che fanno così per promuovere a prezzo di ragione no a prezzo pieno come succede qua i pack un esempio se in un mese esce Fullmetal Alchemist 20th Century Boy per esempio Soliter 40-50 euro è una persona diciamo che ne segue 3 o 4 di questi cioè a parte che poi Soliter vabbè 13 euro vabbè Fullmetal Alchemist 12 vabbè comunque è insostenibile per un ragazzo per un ragazzo di famiglia normale bisogna ragionare pure praticamente la cosa drammatica poi questi praticamente finiscono anche se tu non lo compri subito dici lo compro dopo come facevamo una volta io lo faccio finiscono non lo trovi più e lo trovi a prezzi clamorosi sul mercato dell'online cioè è qualcosa ti becca l'ansia ti becca l'ansia da dire devo comprarlo io una volta dicevo va bene io questo mese compro questo poi tanto questo per esempio è Star Comics non lo dico adesso tanto quello che facevo Star Comics lo compro fra un mese perché comunque lo trovo sempre Star Comics e invece adesso neanche Star Comics riesce a trovare tutto 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 prima era diciamo quasi impossibile che i titoli più importanti di Star Comics non riuscivi a ritrovarli in One Piece soprattutto One Piece capito c'era sempre tutto disponibile e quindi adesso questi ragionamenti non li puoi fare più prima lo ammetto io prima compravo davo la precedenza a panini su una prima stampa diciamo e saperli che comunque i volumi sparivano finivano e che non è giusto neanche questo discorso perché poi in realtà alla fine dovevi sostenere anche Star Comics nel senso che poi alla fine compravo delle serie che poi il discorso non è proprio del tutto giusto quello che facevo però giustamente i soldi sono questi poi a un certo punto cominciò a sparire a me mi è successo con Rocky Joe io lo stavo facendo ma poco per volta a un certo punto non l'ho trovato più in fumetteria ma tra l'altro tuttora questo succede perché io per mio figlio facevo la full color di Dragon Ball a un certo punto la saga di Fritz era completamente sparita sì cioè sì è vero non si è trovata ma infatti un altro errore è questo perché poi ritornando al discorso pure delle edizioni costose in parallelo all'uscita di queste diciamo porno lusso cioè ristampate quelle là economiche che esistono invece no che fai il giochino perché quelli non si trovano allora tu spingi la vendita di quello là più costoso cioè comunque in parallelo dovresti tenere entrambe le edizioni diciamo che però la versione base per esempio di Dragon Ball ancora si trova sì Evergreen si trova ma ad esempio Full Metal Alchemist per esempio non si trova non si trova tutto quello già prima era impossibile prima della nuova pubblicazione a un certo punto l'avevano ristampato quasi tutto ma è durato poco diciamo che forse ecco parlando per esempio per Attacco dei Giganti quello si trova sempre tutto penso One Punch Man le serie più popolari si trovano più che mai sui titoli un po' nicchiosi diciamo quelli un po' meno popolari diciamo che si ha questa difficoltà Solider per esempio pure è mancato per eh sì Solider adesso ho questa edizione niente altrimenti ti trovi la cosa clamorosa è che appena annunciano una nuova edizione ti ritrovi tutte queste edizioni vecchie messe in vendita a blocchi quello sicuramente e quindi secondo te il discorso di fare anche comunque un discorso prezzi migliore questo lo vedo un po' difficile per evitare diciamo la contrazione il fatto che si torna indietro e il momento variant che abbiamo visto è stato il vero argomento principe di quasi tutte le discussioni allora il momento variant penso che sta finendo anche quello ma per il semplice fatto che ormai è sgamatissimo che le variant hanno una tiratura superiore alle standard cioè ormai a meno che l'editore non dice in 100 copie in 200 copie però quando non ci sono numeri perché loro non rivelano mai i numeri e questo è il problema è che comunque saranno disponibili per mesi infatti il 30 di Miro Academy non mi posso mai dimenticare questa cosa era disponibile la variant ma la standard era esaurita cioè ci hai raccontato anche l'altra volta questa cosa mi è rimasta impressa perché ho detto assurdo mi è rimasta impressa questa cosa però tu sei sicuro che stia finendo questo fenomeno perché io a Lucca ho visto un fenomeno grandissimo ma finisce nel momento in cui l'editore non fa questi giochi cioè non dice effettivamente la tiratura quello a Lucca quello a Ale quello sì io ho visto Icari praticamente arrivava alle 10 era già tutto finito polverizzate poi a me questa cosa mette anche paura proprio da detto a lavoro ve lo dico perché poi giustamente questi adesso tutti gli editori hanno visto chiunque fa una variant e la gente tutti l'hanno fatta tutti l'hanno fatta ma tutti l'hanno vendute cioè non è che l'editore X la fa e non la vende no perché ho visto gente andare agli stand ma proprio io l'ho visto nella serie ragazzi lo sto vedendo di persona non ci credo fenomeni paranormali e gente non chiedere un titolo chiedere avete delle variant sì sì per venderle proprio così proprio le seller scandalose io ho il moderatore del mio gruppo che lui prende era un collezionista di variant ma andiamo indietro cioè da sempre da quando c'erano colpito perché lui mi sono stufato perché mi sono altamente rotto i cojones di questo mercato ci sto male perché da collezionista voglio avere le variant ma in questo caso non è più un collezionismo sano è diventato una guerra tra virgolette dove escono e dunque ha detto vendo tutte le variant basta lui ha fatto giù tutta la sua collezione di variant che è di anni 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 vabbè da due vacanze alle maldive penso dopo praticamente sì solo che mi ha lasciato stupito perché ho detto cavolo lui io me lo ricordo nei primi look che mi ha fatto insieme quando non c'era ancora stato il boom del manga era strappassionato aveva passione e a causa di questo mercato malato l'ha portato ad odiare tra virgolette un prodotto che invece amava e questo è molto molto rifletter secondo me ancora secondo me non siamo ancora arrivati al culmine di questo no non siamo al culmine però i collezionisti veri stanno iniziando a capire questo ma beh quello sì quello sì perché la gente compra variant per arricchirsi adesso abbiamo visto che se la variant la prende 5 euro la vendi forse 8 euro dopo 6 mesi che sono finite se nessuno poi le compra più queste variant il gioco cade perché la maggior parte delle persone che lo comprono non sono collezionisti è gente che vuole resellare se non reselli tutto questo cace nel senso non ha sì però ultimamente stanno tornando queste variant veramente limitate il problema è che che tipo di accesso dai cioè come fai a venderle senza far incazzare la gente perché quello poi dopo è un po' il problema c'è il discorso anche di quelli che le vendono e comunque sono dei troll perché fondamentalmente non credo che quelli vendano mille euro siano reali poi si vede che in realtà sono gente che fa finta di vendere in realtà qualcuno è stata venduta a mille euro cioè berserk è stata venduta però si vede già un po' di più dai 800 ai 1000 so per certo che è stata venduta ok diciamo su questa fascia di prezzo 800 1000 è sicuro che è stata venduta però deve essere dichiarato sempre il numero di copie perché se non ha senso non ha valore il token anche in quel caso è stato dichiarato però non è stato dichiarato quante copie hanno messo in commercio della standard vabbè si se no poi decadeva quanto ha venduto nella tua fumetteria quel giochetto la era ludopatia ragazzi ludopatia però vedi anche lì è una manovra brutta brutta proprio è brutta proprio è stata un'operazione di marketing se no quel manga quanto ha venduto cioè il numero 2 immagino che ha venduto un miliardo di volte meno ma soprattutto chi l'ha comprato voglio sapere se l'ha letto perché in un momento in cui molti editori dicono che devono stare attenti all'ambiente quindi hanno metto i prezzi perché la plastica la carta e poi mi fai un lavoro del genere quello è stato un po' ha fatto un po' ridere quando ti danno tutte le giustificazioni ai prezzi che te la mettono lì una carta e poi fanno questa roba qua un po' ti fa incavolare oppure la variant di le ultime che sono uscite di Bleach dentro la plastica la confezione plastica fuori è tutta plastica voglio dire tutta questa ecosostenibilità che mi hai detto tu non me ne sono inventato io cioè dopo lì mi cascono veramente i cosiddetti no cioè meglio stare zitti fare le tue cose guardare Panini è quella che più ha dato abbiamo fatto proprio una lista studiata in cui abbiamo tirato fuori tutto il numero di variant che sono uscite Panini è il doppio di tutti gli altri quindi mi è dispiaciuto poi dentro Star Comics che fondamentalmente di variant ne fa di meno cioè l'aumento dei prezzi che è stato fatto ovviamente è dovuto anche alla situazione attuale però la speranza mia però è come quella di Tony che si cerchi comunque di di andare in versione economica comunque per venire in conto a un pubblico che è sempre più pasto e non penso che abbia tutti questi soldi quello sicuramente cioè però capisco che effettivamente ora la mia paura è appunto che comunque alla fine con la storia delle variant con questa edizione di super lusso i prezzi rimangono sempre più alti e si arrivi a come la Spagna che i prezzi sono molto alti e poi anche su Star Comics Ale era quella che non ritoccava i prezzi già da un po' quindi normalmente un'adeguata tanto succede che se il prezzo di mercato è un altro non mi aspettavo questo aumento massiccio un po' di tutto sì forse è quello che è quello che ha stupito il fatto che sia stato aumentato di botto così tanto sì cioè sono perché sono tanti di parecchio 4.30 5.20 è tanto è tanto però se paragonato al prezzo degli altri editori ti stai equiparando no beh ti stai equiparando ti stai pareggiando quello sì però se cioè a livello percentuale è un aumento però Star Comics ha sempre avuto sto vantaggio del prezzo comunque che ha sempre la linea un pochino più economica la linea un po' più invece si è pari adesso non esistono ma anche economici diciamoci veramente prezzi popularissimi 5.20 5.20 diciamo il prezzo standard attuale sì che che ha Star Comics e pochi altri perché poi alla fine è qualcosa di Planet Planet pure Planet qualcosina però ecco perché ormai il prezzo di tutti gli altri è sui 5 in salire 5.50 5.90 6.50 vabbè però la pagina sopra coperta così però però se prima avevi una giustificazione su magari un'edizione da 4.50 o 4.30 dove magari l'inchiostro un po' ti macchiava le carte una bellissima se adesso questo momento qua io però pretenderò anche che ci sia un ritorno cioè dunque una qualità anche se l'inchiostro sulla carta da un po' che non lo vedo a me succede a me succede ma in Accademia tipo guarda il 14 di Vigilante per esempio io io con Vigilante non so perché ho le mani che diventano nere Dotto Stone qualcosina quindi anche sui titoli nuovi sì 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 ok Tony ti risulta questa cosa su questi titoli io su Vigilante e Vigilante tantissimo e Dotto Stone qualcosina cioè qualcosina inteso di macchiare ma forse sulle stampe un po' più vecchiotte sì però sulle nuove non succede poco forse le maniche magari sudano di più o di meno però tipo su Roba Planet e J-POP ecco J-POP mai succede proprio J-POP mai 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 Planet delle volte mi è successo ma su edizioni passate con Star tuttora purtroppo mi succede meno rispetto a con quelle versioni un po' più economiche sì 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 no sulle 5 tipo Record of Ragnarok ovviamente no che adesso il record è un C cos'è un C? una volta era più 6,90 che succedeva più spesso il prezzo vecchio 5,90 il 5,90 è mai successo sono quelli 4,30 e 4,50 ecco per intenderci io per esempio su Demos Layer che era un'edizione economica non ho mai trovato ultimamente problemi di questo tipo non lo so devo dire la verità però poi giustamente se ci sono situazioni del genere però ecco Francesco fammi un po' delle foto che poi giriamo in modo che comunque noi siamo sempre stati molto vigili rompavamo le scatole a stare perché non è un problema di tutti cioè non è cosa che tutti i volumi cioè è una cosa che capita a me però mi confronto sul mio gruppo e della gente non gli succede quindi non posso non posso fare una segnazione se prima ce l'ho solo io e voi tre no perché allora magari sono io che sfreggo la mano in modo diverso cioè se è una cosa di tutti sì se no no io faccio sempre io devo dire recentemente non ho avuto anche molti ragazzi del mio staff non mi hanno più mentre una volta sì addirittura andiamo a prendere posocco lo chiudemmo in una stanza e facevamo un'intervista solo sulle macche poi andiamo a Perugia dove abbiamo voluto vedere le stampanti cioè pensa come eravamo eravamo parecchio on fire su questa casa qua e tra l'altro prossimamente dovrei andare anch'io a Perugia di nuovo quindi cioè se ci sono situazioni del genere ditemele perché comunque le riporto all'editore quindi però ecco quello che volevo dire metà diciamo verso la metà dell'anno voi come vi aspettate il mercato manga cioè dove si sta indirizzando Francesco sei diverso vedi te lo dici anche nerd in viaggio non lo so cioè metà dell'anno ma a parte stai giocando a ping pong al napoli comico quello già lo sapete quello odio sperando che ci sia mi raccomando ci saranno ad esempio tutta questa marea di titoli in uscita cioè tutte queste uscite beh in realtà in programma ci sono parecchie cose al momento quindi sono curioso di vedere un po' come le gestiranno perché gli annunci sono stati tantissimi tantissimi tanti 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 Luca stiamo parlando di settanta quattro annunci settantasette settantasette una roba del genere e tanta roba è arrivata pure dopo e alcune cose devono ancora uscire alcune cose annunciate prima che non sono arrivate quindi c'è altri titoli per esempio Goen c'è ancora qualcosa da annunciare tanta roba c'è in ballo ma tutti c'hanno qualcosa da annunciare perché non c'hanno tutti qualcosa da annunciare ce n'hanno quindi c'è ancora tutta questa marea di titoli che devono uscire da vedere anche quanto verranno acquistati però cioè quando poi ti trovi un tipo a caso 30 uscite perché sai se mi annunci 70 novità a Lucca questi qua poi devono uscire durante l'anno bene o male quindi dopo io credo che ci ritroveremo in delle mesi con tante carne al fuoco i vettori cosa faranno cioè compreranno dobbiamo scegliere dobbiamo scegliere secondo me anche perché il calendario stesso è gestito male nel senso che ci sono settimane dove esce nulla praticamente esce veramente poco poi tutto insieme tutto insieme tipo dicembre è uscito abbastanza poco per i miei gusti ovviamente dicembre è quasi nessuna novità dicembre è stato veramente triste dicembre niente gennaio le prime due settimane di gennaio è qualcosina però poi penso soprattutto quando poi Goen scadica tutta la sua marea di titoli vedo il dramma capito perché ti destabilizza perché dici il suo mio budget boh fregato io la ragiono così con Star Comics e J-POP un po' riesco a programmare perché il calendario più o meno c'è con Panini programmo settimanalmente e con Goen quando arriva il post capisci cosa devi prendere o meno rispondo al Nibon no l'ultima volta è stata un'eccezione visto che comunque era un titolo molto atteso ho parlato con l'editore e ho chiesto e loro sono stati gentili a offrirmelo la possibilità di poter annunciare una cosa del genere in live perché era un titolo molto molto atteso quindi in realtà non so un annunciatore Goen era soltanto per quell'occasione dovrebbe arrivare il nuovo frontman di Goen prezzo presto la persona che sostituirà Ciocola come è giusto che sia che siano loro ad annunciare le cose se le fanno su anime click mi fa solo che piacere ovviamente non mi sento mai a vivaggio quando devo annunciare per qualcun altro però quello era ormai un meme che doveva finire che tra l'altro dovrebbe uscire adesso a dicembre risulta gennaio scusami a gennaio a gennaio dovevo uscire a proposito bisogna risentirli bravo che mi hai ricordato che domani ti scrivo e dicevamo quindi ci sono una marea di titoli che ci devono invadere le fiere del fumetto avranno le loro prime occasioni cioè io ho un po' paura perché secondo me qui il giocattolo rischia un po' di rompersi perché c'è troppa roba si rischia si rischia quello è vero hanno fatto annunciato tantissime cose ho paura che se poi queste cose effettivamente non ingranano da quest'anno in poi potrebbe esserci un po' la contrattura perché loro le licenze le hanno pagate se queste qua non funzionano quindi cosa si fa anche perché io lo vedo ci sono dei titoli che effettivamente no dai Tony ci sono dei titoli che sono usciti che secondo me non vendono una cippa noi non facciamo nulla e poi parliamoci anche chiaramente ma c'è tanta che rimane lì molto discutibile un esempio Tony vabbè non faccio esempio una cosina al volo una cosina al volo poi ti lascio vai Michele hanno annunciato tutti i titoli bomba grandi negli ultimi anni cioè cosa c'è rimasto veramente che può fare la differenza adesso cioè qualche titolo meme che poi ti posso dire Zatchberg per esempio non sarà un Jujutsu Kaisen non sarà un Demon Slayer perché comunque le cose importanti di Jump in questo momento ci sono e non c'è non è uscito niente altro che al momento ha smosso veramente il mercato anche in Giappone diciamo è super big super big titoli bisogna solo scavare il passato o trovare qualche grossa sorpresa ma secondo me appunto bisognerebbe concentrarsi su quello che hanno e tenerlo sempre magari disponibile magari fare una selezione più accurata di quello che si deve tenere quello che non lo so ti faccio un paragone mi prendo io la responsabilità e Panini abbia debietà però è un esempio è uscito appunto quello del pollo dicevamo che è un bellissimo che per me è un titolo veramente una chicchetta che posso veramente piacere però giustamente uno ha tante uscite dicevi giustamente Tony e compro questo e compro tutto la perfect di quello la perfect di quello l'altro se ne vanno via il pollo lo abbandono o lo abbandono o lo compro però non compro più nient'altro dici di sfizio capito voglio comprare più qualcosa comunque sono sette euro sette euro nel frattempo è fratto nel frattempo fai uscire il manga dei gatti sempre tu Panini che è una specie di parodia anche quella di Torno dei Morti Viventi ora mi spieghi chi si compra il manga dei gatti se già c'hai il pollo che secondo me io perché per essere spiegata il pollo però il ragionamento di Ale fila nel senso di manga è un po' come quando cerchi il manga divertente o il manga cazzone puoi permettertene uno se te lo puoi permetter uno parra due non è che te ne prendi dieci magari ci scappa lo zombie cento o il titolo o per esempio che vuoi vedere lo Yakuza ce ne sono tanti di manga per ridere o come si chiamava Uzaki-chan ce ne sono tanti di manga scialli però ne leggi uno due al mese non dieci quindi devi far per forza una selezione se adesso me ne arrivano altri capite anche voi ragazzi che a meno che non sei ricco allora riesci a far tutto se no non riesci è questo che secondo me può far veramente un po' scoppiare la bolla nel senso fa uscire tanta roba che poi molto probabilmente rimane là in venduta o comunque dopo non si trova cioè rimane cade nel dimenticatoio perché sono titoli che fondamentalmente cadono nel dimenticatoio perché al di là dei titoli di cui parliamo sempre quelli che ho citato più altri o i titoli comunque hipster o comunque quelli che comunque dicono tutti tezuka e giungito ci sono una marea di titoli che arrivano e li vedo tantissimi che magari valgono pure ma come fai a dargli possibilità in tutta questa scelta enorme però anche questi prezzi che vanno dai 5.50 in su capito? ma sai cosa Alessia c'è stato anche un po' ma questa cosa qua di tutti gli editori non se ne salva uno in questo mio ragionamento c'è stato un po' una corsa a chi annuncia di più quasi cioè nel senso io ti annuncio 30 titoli io me ne annuncio 40 allora vince l'editor cioè il tot annuncio era più per chi sempre tra quel disforzo di riempire le librerie che dicevano prima bravo per chi buttava fuori la proposite più lunga passatemi il termine cioè voglio dire chi annunciava di più vinceva boh cioè dicevo più lungo di te tra il te di me dunque via via sempre di più sempre di più e non è finita perché ora stanno arrivando anche i webtoons i fumetti cinesi che secondo me possono fare un grande mercato troppa roba voglio dire e non si investe magari sul settore online che adesso magari chiudiamo l'audio di di Tony che giustamente non è non porta acqua al suo mulino però diciamo che per online la vera possibilità anche di comprarli online a prezzi ragionevoli perché comunque fino adesso i tentativi online non hanno prezzi tanto ragionevoli farsi un abbonamento come per esempio sta facendo Bonelli ma su titoli che fondamentalmente a quel pubblico che va online a leggersi non arriva perché non ce lo vede un lettore di text andarsi a leggere sul tablet text o sul smartphone ecco invece un lettore manga ce lo vedo parecchio no vabbè però tornando al discorso digitale secondo me almeno in Italia se i prezzi rimangono quelli non conviene anche perché no no adesso no vuoi o non vuoi comunque se tu acquisti un manga e a un certo punto non ti piace più lo ripendi il digitale no cioè nel senso comunque nel momento in cui c'è la differenza di un euro tu almeno ammortizzi le spese con la riprendita assolutamente col mercato secondario il digitale che ci vede cioè gli vendi i pdf capito no no cioè capito quindi da questo punto dovrebbe essere un abbonamento qualcosa proprio che mi ammortizza tantissimo un jump plus italiano esatto un mundo de manga capito deve essere una cosa del genere sarebbe figa secondo me no perché se no c'ha ragione Tony nel senso non vale la pena nel senso per uno o due euro ti compri fisico ma non ha proprio senso cioè si dice giustamente il nerd in viaggio il digitale è solo bau quando vanno a due tre euro sui fumetti bau il prezzo non è competitivo no no per niente contando anche i costi di stampa che adesso sono ignoranti in materia però non credo che fare un'edizione stampata o un'edizione pdf c'è solo un euro di differenza non credo ecco credo che sia molto di più il digitale vende meno e comunque ha una licenza che ha un costo anche quello quindi te lo devono far pagare di più per forza se non vogliono fare un buco eh sì quello sì quindi pure voi vi ritrovate con l'idea che magari stiamo andando incontro a un momento in cui ci sarà una contrazione in cui bisogna cercare c'è del pericolo Ale nel senso si rischia per quelle cose che abbiamo detto tantissima roba che arriva sul mercato meno disponibilità economica di tutti perché anche i ricchi comunque si sono impoveriti tutti quanti quindi c'è meno disponibilità e poi giustamente se dobbiamo andare in Giappone spendiamo meno in manga io infatti a maggio sono là io a maggio super eh io già mi sono speso parecchio per andarci ad agosto quindi però ecco appunto cioè sono tutte spese che comunque vengono meno a altri settori che erano appunto questi perché prima devi togliere l'usfizio no e sinceramente non vedo cioè gli editori forse dovrebbero un attimo darsi una calmata cercare di capire che la situazione però a me mi sembra molto che stiano andando ancora molto sull'onda lunga cercando di sfruttare no di erodere il più possibile per ora vedendo gli annunci che hanno fatto sì ci sembrerebbero comunque che loro puntano a a cavalcarla questa onda insomma loro se hanno annunciato così tanto si aspettano di vendere perché se no nel senso sarebbero folli no quindi di sicuro avranno fatto delle previsioni degli studi tu come la vedi dalla fumetteria toglie tutta questa situazione beh io per sé mi hai già detto che comunque la contrazione già c'è ma per ovvie ragioni già ma per ovvie ragioni non è che è una cosa normale che comunque c'è un calo che può andare dal 30 al 40% che comunque è un calo significativo ma è dovuto proprio perché io parlo molto con la gente quindi cioè so di che problemi si trattano o comunque quali sono i loro problemi e quindi cioè ecco bisogna avere proprio un contatto con la gente per capire come va il mercato e i problemi poi relativi al mercato e quindi questo è il problema principale che la gente comunque a livello economico non riescono a sostenere le varie uscite i cambiamenti di prezzi quindi è una cosa comunque non facile quali sono i manga che fondamentalmente tutti aspettavi vendevano di più invece poi alla fine ti hanno un po' deluso dal punto di vista vendite facciamo proprio dei titoli che ti aspettavi dicevo secondo me ha venduto molto meno di quello che mi aspettavo Sakamoto Days è vero è vero che andasse invece cioè nel senso ma non come dovrebbe secondo me forse perché ce ne sono tanti di titoli jump sì però è proprio carino perché è originale io mi ricordo una volta usciva il titolo jump ogni tanto il torico della situazione poteva non andare bene però di solito ne arrivava uno tipo il film Disney ne usciva uno all'anno no? invece adesso escono jump ogni 3x2 quindi magari stanno portando quasi tutto quello che c'è su Wiglish and Jump quindi praticamente è anche la gente deve scegliere per forza non puoi comprare tutto i giovani magari si affezionano più a un titolo rispetto a un altro e magari anche un titolo valido passa un po' in secondo piano chiedono dove hai la fumetteria Tony? facciamo un po' di scam Uroboros si a Fratta Maggiore in provincia di Napoli comunque si si sente molto che sono napoletano quindi si 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 chiama Uroboros Uroboros Fratta Maggiore si farà il 20% di sconto a tutti gli utenti dei miei click ovviamente come mai questo nome? allora perché mi piace molto la simbologia alchemica e quindi l'Uroboro è il serpente che si mangia la coda sostanzialmente e si rifà comunque ha un concetto molto cioè che mi è sempre piaciuto il fatto che comunque tutto quello che finisce poi ricomincia sostanzialmente quindi questa semplicità degli eventi che mi è sempre piaciuto tra l'altro dicevamo Tony per chi si collega per la prima volta lo avete per la prima volta in realtà è una presenza abbastanza continua anche sui nostri canali noi da lui è una presenza importante al Comic Con comunque ha curato l'Asian Village era fra le persone che hanno curato l'Asian Village ha gelato manga dovresti ritornare anche quest'anno cosa si può dire esatto allora al momento non ti può dire ancora perché ho paura ecco ho paura di dire cosa però però si spera che si avrà diciamo un annuncio abbastanza importante a breve a breve perfetto facciamo una live su un anime click faremo questa live dai 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 soprattutto perché comunque ci sono dei cambiamenti in atto no al Comic Con sì esatto perché comunque è un tipo di organizzazione che si rinnova sempre sia per quanto riguarda soprattutto per i contenuti perché comunque c'è volontà di andare comunque di rinnovarsi anche per il futuro per i contenuti soprattutto cioè Comic Con è sempre in linea pure con con diciamo le passioni e quindi tutto questo sta cambiando ed è giusto rinnovarsi da questo punto di vista tra l'altro questo è stato l'esperimento dell'ultimo anno penso che sia stato un unicum nel mondo delle fiere del fumetto questa importanza data al manga che io non ho visto nessuna altra fiera assolutamente no ragazzi abbiamo partecipato tutti ma anche come creator è stato molto divertente cioè a me è piaciuto proprio tanto l'ultima edizione mi sono divertito un casino un clima da villaggio manga praticamente siamo tutti lì e non è sempre l'edizione che sono venuto è molto bene cioè nel senso mi sono trovato avere l'editore direttamente lì non è una cosa proprio portata di mano sì no ma tu calcola che comunque veramente è stato il mio battesimo del fuoco cioè questo comic-con perché ho dovuto curare molti molti aspetti ci ho pianto e veramente anche se mi ricordo diciamo quanto tempo ti occupi comunque del comic-con tra il lusco e il brusco esterno interno 2013 ah mia allora cavolo non pensavo così tanto ho fatto veramente ho ricoperto qualsiasi ruolo all'interno noi dal 2013 che andiamo al napoli comic-con a meno che ci vado io Tony c'è sempre stato una presenza fissa in vari ruoli in varissimi ruoli esatto dal creatore di contenuti a pulizie a fine serata guardia del corpo boss security e ora questo ruolo abbastanza bello che è svolto nell'ultimo periodo anche con Caverna con Sommo insomma avete portato quei contenuti all'ultimo Napoli Comic-Con che io ripeto ho anche portato all'esempio dall'arte fiera italiana ho detto guardate quello che hanno fatto a Napoli secondo me andrebbe fatto un po' dappertutto creare appunto questa sinergia con gli editori i creators tutto il mondo legato a tutto questo come è nata quest'idea Antoni come è venuta tutto questo perché diciamo sembra banale ma è la prima volta che è stato fatto un esperimento del genere questo tipo allora io molto banalmente il fatto è che quando si propone un qualcosa tu devi conoscere il tuo pubblico cioè proprio l'abicino cioè se tu appunto segui i ragazzi vedi cosa cosa magari gli piace tutte queste cose qua tutto il discorso perché scelgono determinati manga perché tu capisci che c'è tutto un ecosistema no dietro il mondo manga e va analizzato no quindi analizzandolo vai poi a mettere i tasselli giusti cioè perché alla fine basta conoscere il pubblico cioè tu devi vivere con la gente non è che fai cose così campate in aria se tu proponi un qualcosa è perché devi piacere alla gente devi avere un minimo di idea cosa piace la gente penso che sia comunque cosa che sembra scontatissima però però non lo è vi assicuro però è questa cosa fondamentale cioè a volte dei curatori cioè sembra che non lo so fanno parte di altri mondi non lo so non sanno come funzionano le cose per loro ma semplicemente non sono appassionati di manga sono appassionati magari in generale del mondo pop però fondamentalmente gli piacciono altre cose cioè in realtà a Napoli abbiamo visto prettamente gente che amava il manga amava comunque questo nostro mondo e si è vista la differenza senza nulla togliere a chi ama altre cose però però dico in generale se io un giorno mi sveglio e dico ah ma perché i manga vendono così tanto cioè ti fai due domande e fai una piccola indagine per anche tu omologarti a quello che sta succedendo per capire perché piacciono i manga perché sta succedendo questo mi faccio due domande e analizzo cioè non è che queste cose vanno considerate non è che il fenomeno sta lì va analizzato no Michele in maniera scientifica dati alla mano capito e in più poi sono stato fortunato perché è sempre stata la mia passione leggere manga quindi conosco i ragazzi conosco ci sono state una serie di cose che sono state la mia fortuna da questo punto di vista il risultato è stato più bravo a creare una bella sinergia che non è facile tra tutti capito questo secondo me cioè il pubblico era sempre presente a tutti gli eventi cioè non è una cosa scontata io non ho sempre visto l'area comunque conferenze così piena la conferenza era sempre piena addirittura c'era gente fuori che non riusciva a vedere non c'era cioè non riusciva a sedersi se avessimo potuto provare tale in un posto ancora più ampio secondo me si riempiva ancora di più ci sono stati momenti davvero per esempio tutti quelli su one piece molto importanti si one piece è stato è stato eclatante one piece è stato eclatante tanta gente in piccionaia bellissima anche la piccionaia non c'era il posto neanche in piccionaia per lo dire c'era tutta la parte sopra no ma infatti si alla luce di questo stiamo già rivalutando dove spostare la sala incontri che vabbè almeno questo spoiler lo posso fare che ospiterà molte più persone quindi cerchiamo di migliorare anche perché si spera come a Lucca che anche a Napoli possano tornare i grandi ospiti internazionali del manga che penso proprio che arriveranno da quest'anno sicuramente 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 abbiamo ancora un sacco di limitazioni l'anno scorso sì sì l'anno scorso calcoliamo stavamo ancora con le mascherine quindi quest'anno sarà veramente la prima edizione free si spera però poi penso di sì cioè assolutamente e quindi assolutamente rimarrà anche quella come zona a noi è piaciuta parecchio il padiglione sarà quello quindi già questo ve lo posso confermare quindi che è comunque il padiglione più grande tra l'altro è stata l'area più visitata o sbaglio dell'ultima sì sì è stata praticamente l'area più visitata di tutti c'era mangaio cranchiro star shop star comics jbop ah giusto è vero è vero questa è la bellezza cioè è l'unica area davvero in cui tutti stavano insieme cioè quella era la nostra area sia gli editori che noi capito sì sì c'erano alcune fumetterie c'erano mi ricordo sì 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 ok ora c'ho tutto ma poi è stata secondo me l'anno scorso una delle poche fiere dove ho respirato finalmente tipo quell'atmosfera di fiera che mi mancava da tanto prima che cadessero tutte le limitazioni capito tanti appassionati sì sì bello poi Napoli il calore della gente è diverso sembra una banalità dire è diverso e poi c'è un'area VIP migliore dai dillo dillo l'area pro l'area pro l'area pro è bellissima becca di cibo becca di cibo devevo lanciare un sassolino tornato segniamo i feedback di Francesco annotiamo ma lui è sostanzialmente è stato sempre là quindi capisci ma dove cacchio trovi un posto dove c'è pure il ping pong dell'ADSM la birra gratis io la birra non la bevo quindi voi tutti ne hai perluggavi lui la birra non la bevo c'era pure la fanta però loro non mangiano perché tanto fa una cosa leviamo il ping pong e mettiamo gli stuzzichini non lo so allora no ho la foto anche con te Ale che stavano giocando a ping pong è l'ultima mattina è stato che era per il meme io non ho mai avuto il tempo di giocare ho la foto però è bello perché il povero Ale che correva da un momento all'altro in area pro lo vedevi solo un secondo magari per poi prendere su un caffè al volo che non ce la facevo più per prendere su un caffè sì esatto perché poi anche è l'area dove cibarsi purtroppo era talmente affollato il napolicomico l'anno scorso che per andare in qualsiasi area a comprare effettivamente qualcosa per mangiare e bere dovevi fare delle frite clamorose anche se lì c'è sempre la pizzetta per per l'altro Ale ero anche cioè Tony io mi sono infilato dietro dalle pizzerie sai le pizzerie dove facevano le pizzerie ma anche in retro scena guarda che io queste cose a Tony non le racconterai perché lui fa parte sempre dell'organizzazione sicurezza sicurezza no ma io comunque parte dello staff delle pizzerie l'anno scorso c'era l'area pizza che era una grande trovata mi ricordo pizza con il pizza con molto bella spero che venga riproposta anche perché c'erano le principali pizzerie c'era cosa c'era come si chiama quello di mi scappa è Porzio Porzio si chiama Porzio non mi ricordo comunque si vabbè comunque c'erano diversi pizzerioli comunque rinnovati ecco e poi c'eri pure te se tu entravvi là dentro c'era la possibilità di incontrare te che stavi là abusivamente ad aprire faccio la pizza al comicon metto lì chiedo a qualche maestro pizzeriolo di farmela fare metti a lì vi manderemo il video di questo non mancherà assolutamente ragazzi siamo in chiusura Tony quest'anno che prospettiva è a parte ovviamente continuare il tuo lavoro al comicon tu hai anche un canale che idee hai per anche il tuo sviluppo futuro in quanto persona non solo legata al mondo della fumetteria ma anche personale diciamo legata al mondo del web allora visto che comunque per me 2022 è stato un brutto anno e spero che comunque poi sono scomparso un po' dai social quindi spero comunque di riprendere al meglio con Twitch e con vabbè sempre tutti occupati del canale del comicon tra l'altro sì esatto esatto forse ricomincerò anche lì però principalmente sono più su progetti miei quello Timewalker 90 dove il 30 gennaio faremo una live molto carina su un gioco di ruolo di Need Game che Fabula Ultima con Nicola De Coppiste come master insieme a Caverna Sommobuta e Angelo Masullo quindi sarà una cosa molto divertente molto tutto da napoletana diciamo sì sì esatto è stato fatto apposta è stato fatto apposta e quindi riparto diciamo con questo progettino e poi vuoi continuare o allora io non so io ci provo ma lì lo faccio molto in maniera disinteressata per il semplice fatto che io per anni ho lavorato sempre dietro le quinte e volevo cambiare un po' discorso insomma e cercare un po' di emergere un po' assolutamente poi ragazzi ci sta da una vita ma Tone è giovanissimo quindi ancora c'hai tantissimo margine assolutamente quindi ti seguiremo sempre con molto interesse grazie Michele tu quest'anno hai fatto una promessa di tornare con Salotti sì ma lo faccio lo faccio ho anche preparato nuovi format sono pronto a rivoluzionare totalmente anche il mio canale perché ho voglia di portare cose diverse poi si torna in fiera io già da domenica Ale già da sabato sono in fiera Ale perché mi hanno invitato a Ultracon quindi sono a Cremona a Cremona quindi già da questo weekend sono in fiera e si prospetta un anno anche molto attivo da quel punto di vista perché a me piace stare in fiera ho capito che mi piace tantissimo stare a contatto con la gente quindi voglio tornare a fare tante cose a contatto con le persone quindi se si riesce magari anche qualche evento in presenza in qualche fumetteria ci sono un po' di cose adesso che stanno girando un po' nell'aria dobbiamo capire Francesco stiamo lavorando stiamo lavorando stiamo lavorando però a Bologna ci siete che la mia prima fiera che farò è a Bologna quando è a Bologna? ci sono sicuramente il sabato ci sono no febbraio dovrei enterci io sicuramente il sabato vengo e vengo a farmi una giornata probabilmente sarò più a farmi un vlog e godermi la fiera perché non penso che farò niente in fiera a Bologna a meno che non arriva qualche altro invito però ci sono ti trovi sicuramente a otaku inside quindi Bologna zero dassa giù a Napoli a prendere in spazio io già per Napoli ho già prenotato l'albergo perché non vedo l'ora Napoli assolutamente ci siamo sempre ormai ho prenotato già eravamo in momenti in cui stavamo solo col tavolino e Tony se lo ricorda era momenti diciamo eroici figuriamoci se manchiamo poi adesso da Napoli che è la nostra diciamo fiera tra le nostre preferite se non la preferita in assoluto quindi figuriamoci e vedo che la cosa sta riscontrando sempre più successo perché comunque tutti mi dicono che a Napoli si trovano benissimo assolutamente no no questa è una sorta da convincere anche tanta gente dalla community a venire anche dal nord Italia perché ho detto guarda ragazzi che vi divertite un sacco venite a Napoli è vero è vero c'è anche il Bergamo Comicon quest'anno e quest'anno sono molto incuriosito dal Bergamo Comicon che sarebbe la versione nord che poi fondamentalmente è un mese dopo è infatti a giugno giugno ok si vi dico subito ci dici pure magari qualche cosa cioè cosa sarà esattamente sarà una spingargo secondo me si può dire qualcosa no non può parlare del Comicon che ora si può allora 23-25 giugno 28 aprile primo ma scusate cioè devo capire una roba io ma ci sono solo io ma che è successo non lo so ah ok no perché non so non ho capito perché però ah ehi ma solo io infatti non capivo se ero in live non lo so cos'è successo no no è saltata proprio la live è saltata proprio la live non so adesso siamo live però ci ha buttato tipo fuori da streamer non so perché non so perché perché ero rimasto è rimasto poi solo tra quinside ma cos'era una specie di li ha uccisi tutti effettivamente cioè ci hai ucciso tutti immagino la faccia di Francesco in quel momento poi andrò a rivedere che ho visto da solo e non li dice e dicevo aspetta non capivo ritorniamo indietro nel tempo stavamo dicendo Bergamo Comics non ci puoi dire niente no vabbè a parte le date non posso dire altro 23-25 giugno a Bergamo siamo molto curiosi perché è la prima volta che il Comicon si sdoppia quindi chissà che cosa per me è molto male per me è molto male per te Tani impegna doppio molto male molto male no però cioè vedrete pian piano sicuramente aggiornerò man mano sul canale di Anime Click sui vai sui vari aggiornamenti che ci saranno per l'evento molto molto curioso molto molto curioso eh sì perché comunque a parte che ci sarà una mole di lavoro per noi non è indifferente eh perché poi lo tempo è limitato cioè è finito Comicon praticamente subito dopo e ve lo dovete organizzare quasi in contemporanea sì 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 no ma il lavoro sarà fatto in parallelo perché se no certo è impossibile se no è impossibile Francesco tu invece hai preparato qualcosa per questo 2023 abbiamo in ballo un progettino interessante con Miki che non possiamo ancora dire niente quindi ci stiamo muovendo ma è qualcosa di porno no ma non è un po' porno un po' porno e beh vabbè niente Comicon Comicon ad aprile maggio Giappone che sono già in super hype e basta meno male non parliamo di Giapponeo ad agosto io sono già casatissimo ecco e quest'anno volevo cercare di portare dei contenuti un pochettino più più mirati da là per il canale YouTube ma non tanto per il pubblico ma per il mio ricordo personale da stare lì no solo che poi un bel vlog dal Giappone sarebbe bello fra dai sono che poi mi scordo cioè non è che mi scordo ma facciamo un collegamento dal Giappone facciamo come si dice un manganite dal Giappone si può fare ci sono pure quei collegamenti che tu vai in giro e racconti cose mentre fai vedere il Giappone eh sì no sarebbe bello nel 2019 lo facevo direttamente però su Facebook cioè nel mio gruppo di Facebook lo facevo ed era straseguita come rubrica ci facevo un sacco di di numeri per il gruppo chiuso che che è insomma facevo quindi facciamolo una volta ci colleghiamo e tu stai dal Giappone e ti fai in giro cosa che troverò a fare anche io si fanno ospitata vengono anche altre persone che stanno in Giappone insomma nella live ah 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 vengono altre persone che stanno in Giappone Ale capito? ho capito che cosa vuoi dire io ti insieme guarda ti spiego questo te lo prometto solo se tu entrerai in un love hotel e facciamo una live dal love hotel quello ci vuole due secondi cioè nel senso facciamo una live dal love hotel secondo me sfondiamo l'internet tu che dici io non vedo l'ora andata vi faccio l'inviato grande Giappone ci stanno bravo ragazzi bravo Martina Marta ciao vi salutiamo e tra l'altro appunto anche io devo andare in Giappone c'ho parecchie cose che poi spero di poter fare e rivelare perché il mio interesse è quello poi ovviamente di portare il Giappone sempre a casa degli italiani ma non solo andare a fare anche intervistine e sto lavorando per quello eh sto lavorando per quello ma io non ci sono mai stato in Giappone proprio tristissimo è giunto il momento è giunto il momento non adesso perché costa un sacco di soldi se vuoi sì adesso sì adesso è un po' impagativo anche se ci vai verso maggio cioè adesso ormai no ma adesso proprio come momento purtroppo è molto cioè ci vai noi in un gruppo da soli io quest'anno vado per i fatti miei poi mi incontrerò con il gruppo di Anime Click sia a Osaka che a Tokyo ho preso anche lo stesso albergo però se paghi non in gruppo e vuoi andare da solo è un costo molto più alto sicuramente i biglietti sono lievitati in maniera esistenziale quello sì poi vabbè Otago Inside ha pagato di meno perché il periodo quando l'ha comprato andava bene io pago io vado a maggio posso anche dirlo 700 euro andata e il ritomo di mille io ho avuto di più purtroppo potevo pagare 630 però ho voluto spendere un attimino in più per avere la possibilità di spostare le date a mio piacimento sai con quarantena e tutto il lavoro insomma non posso rischiare però sotto i 700 600 è impossibile sai cosa dove si risparmia adesso con gli hotel sicuramente sono no gli hotel non costa niente non costa niente io faccio 16 giorni da solo là pago 500 euro da solo 16 notti no 16 notti 16 notti 500 euro costano molto meno però purtroppo il viaggio aereo costa molto di più prima con 6-700 euro andate e ritorno per la cavali cioè ora agosto avevi il minimo 1100 ti dico e senza assicurazione è tutto i chiari di luna che purtroppo vediamo secondo me è un minimo di assicurazione per essere rimborsati in caso non si parta serve sì assolutamente quindi ragazzi in bocca al lupo cioè un anno veramente la grande poi speriamo di rivedere anche Laura che fra ragù che il busco purtroppo non riesce mai a venire doveva venire anche stasera ha avuto degli impedimenti ovviamente non dipesi dalla sua volontà quindi ci aspettiamo anche perché la parte femminile io voglio punzecchiarla un po' non male ci bacchetta abbiamo un po' a parlare dei suoi manga come richiami te quelli che legge Francesco quelli per le vecchie quelle per le vecchie sì le sono poveras quindi ragazzi seguite sempre il canale Timewalker90 per quanto riguarda Tony Michele Mari che lo conoscete e la pagina Facebook di Otago Inside e anche il canale YouTube dove qualche volta appunto ma anche Porcino Inside che fra poco vorrebbe tornare quando è stagionale canale stagionale canale stagionale quando arriva il momento dei porcini ragazzi collegatevi perché quello ci saranno delle primizie delle primizie il porcino variant attenzione e il mescato si impenna quindi ragazzi salutone e ci si vede domani a parlare di anime qui sul calare ciao 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 ragazzi ciao